E' prima esperienza pubblico privato, questo ha fatto sì che avessimo una possibilità di maggiore velocità nell'attuazione di alcune procedure, anche se adesso ormai siamo a tutti gli effetti un organismo di diritto pubblico e quindi rientriamo in tutte le casistiche degli enti non territoriali locali. La nostra posizione, ma penso che sia abbastanza inutile dirlo perché siamo tutti locali, questo è importante perché Torre Cuceto è un insieme di aree protette, abbiamo un'area meno protetta, abbiamo una riserva naturale dello Stato, ma abbiamo anche due aree individuate secondo due direttive europee, la direttiva abita e la direttiva uccelli che sono praticamente la base per la nascita delle aree protette a livello europeo, quindi è presente un SIC, il SIC Torre Cuceto Macchia San Giovanni e una ZPS Torre Cuceto, però dalle varie retinature che vedete si può notare come queste aree protette non siano poi in qualche maniera coincidenti e quindi fa sì che anche a livello amministrativo non sia facile gestirla perché gestiamo la riserva terrestre, gestiamo la riserva marina ma le competenze nelle due aree da parte del soggetto gestore sono diverse, poi le competenze nelle aree SIC e ZPS è ancora minore perché siamo in attesa dell'istituzione da parte della Regione Puglia delle quelle che sono le reali aree naturali protette europee che sono le zone speciali di conservazione e speriamo che in un paio d'anni la Regione arrivi a definire questo nuovo status. Abbiamo due decreti istitutivi che sono per noi la nostra base, dalla quale non possiamo prescindere nell'attuale delle nostre politiche che sono l'istituzione dell'area marina protetta nel 1991 e il decreto istitutivo della riserva naturale dello Stato del 2000, sommando le due aree come potete vedere parliamo di circa 3.000 ettari che non è moltissimo, considerate che però esiste un parco nazionale che è di 3.000 ettari circa che è il parco nazionale delle 5 terre, quindi siamo sì piccoli ma non piccolissimi. Come dicevo prima le altre forme di protezione presenti, nasciamo come zona Ramsar che è una individuazione di zone umidi di protezione nazionale degli anni 70, poi ZPS, SIC e questi sono gli habitat prioritari che noi proteggiamo, quindi le dune costiere, le lagune costiere che sono fondamentalmente gli stanni presenti nell'area, le steppe salata mediterranei che non è molto, un valore difficilmente trasmissibile e poi invece le erbari di Positone che sono le fraterie di Positone che sono sottomarine. Questo è il posizionamento geografico dei vari habitat, la cosa importante da dire è che Torre Guoceto è fondamentalmente divisa in due dalla statale, abbiamo un'area a una naturalità maggiore lato costa e un'area a prevalenza agricola, finalità agricola nell'area al monte della 379, anche se poi all'interno dell'area naturale terrestre con vocazione agricola è presente l'ultimo lembo delle parco dell'area degli ulivi secolari che è stato individuato come area di rilevanza paesaggistica da parte della regione Puglia, quindi ci sono circa 200 ettari di ulivi secolari. Questa è la zona azione della riserva marina, le varie colorazioni indicano le diverse possibilità di fare attività all'interno, una diversa regolamentazione, abbiamo le zone rosse che sono le zone A, quindi quella a protezione integrale, che sono quelle all'intorno all'area, al promontorio della torre, zone B fondamentalmente legate esclusivamente alla bagnazione e la zona C che invece è legata a quelle attività anche produttive che però devono essere autorizzate dall'ente gestore, quali per esempio la pesca professionale. Ancora più complicato è il fatto che se passa la zona speciale di conservazione, quindi l'area protetta europea, noi dovremmo anche gestire un fronte mare di circa 34 km che è il SIC marino del chiamato Torre Guoceto, ma anche San Giovanni, però questo a livello interessa meno. Giusto un cenno, il fatto che vi ho detto all'inizio che noi abbiamo studiato una situazione iniziale, abbiamo individuato quelle che potevano essere le opportunità e le potenzialità dell'area in funzione anche ai vincoli e alle minacce presenti, quindi un'analisi che viene fatta normalmente in serie di pianificazione. Quindi abbiamo cercato quelle che erano le minacce, di trasformarle in qualche maniera bloccarle laddove era possibile e quelle che potevano essere dei vincoli, trasformarle invece poi in opportunità. Quindi abbiamo cercato di lavorare in funzione di trasformare i problemi in possibilità di sviluppo dell'area e quindi abbiamo individuato tutta una serie di minacce presenti nella colonna rossa in modo tale da definire la nostra strategia gestionale. Alcune delle problematiche che ci siamo trovati di fronte e che in alcuni casi non possiamo risolvere, cioè possiamo gestire ma non possiamo risolvere. Quello che più balza agli occhi è il discorso della presenza dei rifiuti sulle spiagge. Problema non risolvibile ma che può essere gestito. Non risolvibile perché chiaramente i rifiuti di origine marina vengono portati dai venti dominanti, quindi venti maestrale, comunque del quadrante nord. Provengono da altre zone, dal traffico marittimo, dalla parte opposta dell'Adriato, quindi Albania-Grecia e quindi diventa difficile poter risolvere perché l'area marina protetta è fondamentalmente un sistema aperto, quindi non puoi considerare dei confini e quindi chiudendoti dentro puoi sentirti sicuro rispetto a delle minacce esterne. Chiaramente quelle che sono delle problematiche presenti al di fuori dell'area marina protetta ma che influiscono sulla vita della stessa noi possiamo esclusivamente gestirle ma difficilmente risolverle. Quindi all'inizio c'è stata una pulizia profonda di tutte le aree dove storicamente erano presenti dei rifiuti. Adesso annualmente dobbiamo gestire questa attività pur non essendo i reali responsabili di tale attività perché la competenza nella pulizia degli editorali costieri è demandata agli enti locali, ai comuni. Però noi per evitare l'utilizzo di tecniche che sono assolutamente impattanti in aree costiere di tale importanza, quale per esempio l'utilizzo dei cerni sabbie e così via, chiaramente preferiamo farla a mano e cercare laddove è possibile ai finanziamenti per attuarla. Alcuni degli esempi che continuavano un po' il lavoro di volontari che si faceva quando si era l'NVUF. Altro problema importante che ci siamo trovati di fronte da affrontare è stata la pesca abusiva. L'area marina protetta è nata nel 1991 ed è stata gestita subito dalla caperina di Porto per circa 10 anni. Prima dell'istituzione dell'area marina protetta le modalità di pesca erano le più svariate, comprese le bombe. Con la nascita dell'area marina protetta e con il controllo all'inizio molto presente della caperina di Porto, questo fenomeno è via via sceso fino a diventare residuale con noi, nel senso che vengono individuati circa neanche una decina di episodi di pesca abusiva con reti o comunque con altri strumenti professionali all'interno dell'area. E questo periodo di di controllo sulla riserva ha permesso poi di attuare delle politiche di sviluppo su questo settore di cui parleremo dopo. Chiaramente noi siamo molto impegnati poi in una costante attività di monitoraggio scientifico perché noi dobbiamo verificare in maniera costante quelli che sono i risultati della nostra politica gestionale e quindi vedere se la nostra gestione è efficace in funzione degli obiettivi che ci siamo posti, ma un aspetto molto importante che abbiamo perseguito è quello di coinvolgere quelli che erano i nostri portatori di interesse nella gestione dell'area. In letteratura è quasi normale trovare che in un'area con delle caratteristiche naturali importanti si istituisce un'area naturale protetta, l'istituzione dell'area naturale protetta fa sì che in quel territorio nascano subito dei vincoli di protezione, questo crea un contrasto immediato con residenti o comunque quelli che sono i portatori di interesse di quel territorio sia per interessi leciti, l'agricoltura, l'attività produttiva, la zootecnia e così via, sia per interessi non leciti, abusivismo edilizio e così via. O forme anche di tecniche di agricoltura che non sono più consentite. Quindi anche noi abbiamo i primi due o tre anni abbiamo avuto un forte contrasto con soprattutto gli agricoltori perché i pescatori professionisti ormai si erano spostati perché non era consentita la pesca e quindi venivano costantemente multati, portati a processo penale, quindi a un certo punto non sono venuti più, però sicuramente con gli agricoltori abbiamo avuto un grossissimo scontro iniziale perché era ancora presente una fetta di popolazione contraria alla riserva naturale dello Stato e che era convinta di poter annullare il decreto istitutivo e quindi fomentava gli agricoltori contro la riserva perché veniva detto che non si sarebbe potuto più fare agricoltura e così via. Abbiamo iniziato trovandoci questo scontro e comunque mantenendo una posizione abbastanza netta nei loro confronti fino a circa il 2003. Poi abbiamo cambiato strategia, abbiamo iniziato soprattutto in funzione della nascita del regolamento del parco, abbiamo cambiato strategia cercando di non lavorare, non enfatizzare ciò che avrebbe comportato il regolamento da un punto di vista di tecniche culturali o di possibilità di ristrutturazioni in funzione sempre agricole, di capannoni e così via, ma enfatizzando quelle che potevano essere le opportunità degli agricoltori nell'avere un'area protetta nel loro territorio. E poi vedremo come siamo arrivati, a che cosa ci ha portato questo cammino. giusto per darvi un'idea c'è un'immagine di Terra Madre, Terra Madre è una comunità mondiale nata da Slow Food, internazionale, che riunisce produttori di tutto il mondo che fanno un'agricoltura equa e sostenibile. I nostri agricoltori adesso e i nostri pescatori fanno parte di questa comunità. In dieci anni noi li abbiamo portati da uno scontro e da non volere l'area protetta al collaborare con noi nella definizione dei regolamenti e in qualche maniera avere un palcoscenico internazionale che l'area protetta li garantisce per poter continuare a fare in maniera sostenibile le attività quali pesca e agricoltura. Giusto molto velocemente, alcuni risultati della gestione sono prima di tutto il fatto che siamo registrati EMAS, vuol dire che abbiamo un sistema di gestione ambientale che segue un protocollo, viene verificato dall'esterno e quindi garantisce soprattutto verso l'esterno che ciò che noi facciamo è consono agli obiettivi e traguardi che ci siamo posti all'inizio normalmente di un periodo, di un triennio. Questa è una garanzia verso l'esterno di in qualche maniera avere la possibilità anche di controllare il nostro operato e se questo avviene in maniera efficace. Altra cosa importantissima che non è molto conosciuto, ma soprattutto per un limite nostro nella comunicazione, il fatto che Torre Goceto è inserita in una lista specialissima legata alla Convenzione di Barcellona, legata al protocollo delle aree specialmente protette del Mediterraneo, che la Convenzione di Barcellona è una convenzione che ha avuto via via delle varie versioni ma che è nata nel contesto Mediterraneo per la protezione del mare Mediterraneo. Il protocollo ASPIM individua all'interno del mare Mediterraneo una serie di aree che sono hotspot della biodiversità, cioè punti focali, punti importanti per la conservazione della biodiversità mediterranea. Torre Goceto è uno di quelli, è una delle prime 5 aree inserite dal Ministero dell'Ambiente all'interno di questo protocollo e questo fa sì che poi anche Torre Goceto abbia un riconoscimento a livello internazionale. Questi sono gli abiti fondamentalmente presenti importanti per la Convenzione di Barcellona che sono il coralligeno che è quello rosso e le praterie di Posidone che sono quelli in verde. La cosa carina da notare è il fatto che le zone A, cioè la zona a protezione integrale, non ricopre assolutamente queste biocenosi importanti ma per un limite nella nascita dell'area marina protetta. Altro risultato importante è il fatto che abbiamo esteso i confini del SIC, cioè del sito di importanza comunitaria grazie a un progetto LIFE e abbiamo aumentato di circa il 20%. Questo ha permesso anche di evitare delle speculazioni che stavano nascendo nella zona nord legate a un villaggio turistico, siamo riusciti a chiudere questa procedura prima in maniera tale che poi fosse impossibile continuare in quel senso. Altri risultati che abbiamo avuto è l'apertura di un chiaro d'acqua grazie a un finanziamento Italia-Albania, abbiamo praticamente aumentato abita al prioritario Laguna Costiera ed è quel chiaro d'acqua che dalla statale andando verso Bari si vede quando più o meno si inizia a intravedere la torre, che ci ha portato poi dei risultati anche da un punto di vista di presenze di albifauna importantissime perché uno dei limiti di Torre Coceto è il fatto che i chiaro d'acqua fossero molto piccoli. Abbiamo adesso 6.000 ettri di chiaro d'acqua e questo ha permesso la presenza per esempio quest'inverno di spatole, di fissioni turchi e così via, di specie importanti. Abbiamo anche ormai evidenze di idificazione all'interno del chiaro d'acqua. Altra cosa importante è l'attività che abbiamo fatto sulle dune costiere di ripristino delle dune attraverso gli interventi di ingegneria e naturalistica, abbiamo circa ricucito 8.000 m2 di dune costiere e in più ci siamo fatti una procedura abbastanza particolare, fatti consegnare dalla regione Puglia e il demanio marittimo. In questa maniera abbiamo evitato anche che ci potessero essere possibili aperture di lidi all'interno degli 8 km di costa, di lidi fondamentalmente attrezzati, noi non abbiamo la gestione del demanio marittimo costiero, non siamo ente deputato a gestire il demanio marittimo costiero, questa è una delle cose strane, la gestione è comunque del ministero che poi è passata alle regioni e quindi ai comuni e quindi noi possiamo dare esclusivamente dei pareri ma non abbiamo la possibilità di dire sì o no all'apertura di un lido, quindi facendoci consegnare il demanio marittimo abbiamo evitato la possibilità di nascita di situazioni che non fossero poi sostenibili da un punto di vista ambientale. Un problema molto grave che abbiamo a livello di gestione della fascia costiera è l'arretramento dell'erosione costiera presente, abbiamo notato in circa 6 anni un arretramento medio della spiaggia di circa 20 metri, questo ha creato anche situazioni spiacevoli ma è anche un problema di difficilissima gestione perché gli interventi di ingegneria naturalistica possibili sono fortemente impattanti e quindi si sta cercando di capire come gestire questo fenomeno. Una delle esperienze più importanti che abbiamo avuto è quella della pesca sostenibile, vi ho detto della nascita dell'area marina protetta, nel 91 gestita dalla Caprina di Porto, circa 10 anni di gestione esclusivamente di controllo dell'area e non di valorizzazione dell'area marina protetta, noi diventiamo gestori nel luglio del 2001, diventiamo operativi nel luglio del 2001, continuiamo in questa politica di chiusura della pesca, nel 2005 dopo 4 anni di costante monitoraggio delle risorse alieutiche, degli stocchi ittici presenti nell'area, abbiamo deciso di aprire in maniera sperimentale la pesca all'interno dell'area marina protetta, quello che abbiamo fatto è stato quello di coinvolgere i pescatori professionali delle marine di Carovigno e Brindisi, anche se poi Brindisi non ha mai aderito perché la distanza con il porto di Brindisi è tale che non rende conveniente venire a pescare da noi, diciamo che da Brindisi vengono solamente gli abusivi da zona Apani e così via, ma i professionisti non vengono per una questione di distanza, comunque li abbiamo coinvolti in questo protocollo di ricerca, quindi noi fondamentalmente abbiamo trovato risorse economiche per pagare l'università per fare l'attività di valutazione del dato e abbiamo coinvolto i pescatori nell'attività di presa del pesce che veniva costantemente misurato dai ricercatori dell'università a costo zero, cioè noi abbiamo detto voi pescate, noi misuriamo, voi pescate secondo quello che vi diciamo noi, quindi vi autorizziamo per andare quando vogliamo noi, utilizzate la terza da pesca che vi diciamo noi, voi pescate, noi dobbiamo misurare il pesce vostro, quindi noi non abbiamo dovuto pagare il discorso di in qualche maniera costi di benzina e così costi personali per poter andare a prendere il dato, noi li aspettavamo fondamentalmente a terra, abbiamo misurato da lì e loro si sono ripagati con la pesca, con la vendita del pescato. La cosa importante è che questo ha fatto sì che è iniziato un rapporto con i pescatori professionisti con i quali abbiamo poi redatto il regolamento di esecuzione del decreto istitutivo dell'area marina protetta e quindi abbiamo deciso con loro però mettendo dei paletti fermi su alcune tecniche di pesca o sulla frequenza e così via, abbiamo deciso con loro le regole per poter andare a pesca. Ad oggi loro stessi hanno deciso di andare una volta a settimana e addirittura noi avevamo proposto una rete con una maglia ancora più piccola perché pensavamo che fosse sostenibile e loro hanno chiesto di avere una maglia più larga, quindi questo per evitare di catturare pesci troppo piccoli e che dandogli la possibilità di avere più cicli di riproduzione e di accrescimento. I dati che sono usciti fuori da questa attività di monitoraggio sono stati in alcuni casi sorprendenti perché ne hanno fatto un caso anche a livello mondiale, noi abbiamo avuto poi ospiti dalla Baia di Monterei, dall'area marina protetta della Baia di Monterei che per chi si occupa di conservazione marina rappresenta una delle aree dove vengono fatte le esperienze più interessanti dal punto di vista di gestione sia della pesca che della conservazione, perché il dato che usciva fuori è che i pescatori all'interno dell'area marina protetta pescavano circa 4 volte di più di quello che c'era all'esterno. Noi abbiamo confutato con questo una delle conseguenze che normalmente in letteratura venivano scritte per la nascita di un'area marina protetta, uno degli effetti della nascita di un'area marina protetta è che noi proteggiamo il pesce all'interno, il pesce poi esce fuori dai confini e popola il resto del mare. Non è così, nel senso che Torre Goceto continua a mantenere una concentrazione più alta di pesce rispetto all'esterno. Questo perché il pesce si è abituato a rimanere molto più sottoposto da noi perché non disturbato ed evita di uscire all'esterno. Noi siamo invece un bacino importante da un punto di vista genetico, nel senso che ciò che non può essere bloccato o che non può dipendere dalla volontà del pesce, per quanto un pesce possa avere una volontà, è il materiale genetico, quindi la vanotteria o il materiale fecondato dei pesci. Quindi noi abbiamo ritrovato che pesce che si trova all'interno dell'area marina protetta, a livello genetico, ha poi popolato un po' una parte nord, ma poi seguendo le correnti è sceso fino ad arrivare anche all'area marina protetta di Porto Cesario. Questo vuol dire che più che bacino per pesce cresciuto, l'area marina protetta è un bacino per pesce che deve diventare. Questa è una curva di ciò che è stato pescato dentro e fuori dal 2005 al 2009, quando poi è iniziata la pesca professionale grazie al regolamento. C'è stato un calo fisiologico da circa 4 volte a 2 volte e mezzo, perché storicamente per 15 anni non sarà mai pescato. Però la cosa da notare è che le rese all'esterno dell'area marina protetta sono mantenute costanti. Quindi noi comunque manteniamo un rendimento di pesca più alto rispetto all'esterno. Allora, cosa abbiamo fatto poi da un punto di vista anche di sviluppo del territorio? Negli anni il concetto di area protetta è molto cambiato, cioè da area in cui si deve proteggere e basta. Il concetto dell'area protetta si è un po' esteso diventando anche in molti casi laboratori di sviluppo sostenibile. Per un periodo storico si è anche cercato di tirare un po' troppo questo aspetto e per un certo periodo si è presa una deriva strana di far diventare le aree protette come fondamentalmente delle proloco, cosa che noi non siamo. Però grazie a Dio adesso ultimamente stiamo ritornando a parlare di conservazione come elemento principale, questo nel dialogo con il Ministero dell'Ambiente. Però una delle finalità sicuramente delle aree protette è quella di valorizzare le attività tradizionali presenti all'interno e di promuovere uno sviluppo socio-economico che sia sostenibile. Chiaramente è importante per poter sviluppare in maniera sostenibile capire che cosa c'è all'interno di un'area protetta, se non si sa che cosa c'è è impossibile capire qual è il livello di guardia da non superare. Primi passi che abbiamo fatto è stata quella di rendere chiaro verso l'esterno quelle erano le finalità dell'area protetta anche con una poliga di comunicazione verso l'esterno che via via è proseguita negli anni, con pannelli informativi e così via. con la creazione di servizi anche per i portatori di Indica, adesso vedremo dove, o con la creazione dei sentieri natura all'interno dell'area. Una delle esperienze più importanti è stata quella della nascita della comunità dei produttori, vi dicevo prima dell'iniziale di affidenza degli agricoltori, dell'iniziale scontro con gli agricoltori. Nel 2005 abbiamo portato avanti un progetto di creazione di una filiera biologica, di una filiera produttiva biologica dell'olio, a partire dagli universi secolari presenti nell'area protetta. Abbiamo creato un brand che è l'Oro del Parco e via via i produttori che hanno aderito volontariamente alla produzione dell'olio biologico del Parco sono aumentati. Inizialmente avevamo circa 10 ettari convertito a biologico per la produzione dell'olio, siamo arrivati adesso a circa 26-27 ettari. Addirittura abbiamo avuto produttori all'esterno dell'area protetta che ci chiedevano come entrare nell'area protetta per poter poi aderire al progetto dell'olio biologico, però noi chiaramente abbiamo mantenuto il tutto all'interno dei confini perché chi produce all'interno ha dei vincoli maggiori rispetto a chi produce all'esterno. Seconda esperienza, sempre legata alla produzione agricola, è il recupero di una cultivar tipica fondamentalmente della provincia di Brindisi che è il pomodoro che schetto, è una cultivar particolare perché è molto in grado di sopravvivere in condizioni di salinità maggiore e quindi tende a sviluppare virosi con molta più difficoltà. Noi abbiamo recuperato questa cultivar, abbiamo portato dei produttori a convertire delle aree a biologico con la produzione di pomodoro che schetto e questo ha fatto in modo che si creasse anche lì una filiera e dal pomodoro fresco si arrivasse alla passata e alla conserve fondamentalmente di pomodori secchi o semisecchi e quindi garantendo ai produttori il maggior guadagno perché è nella trasformazione il maggior guadagno per gli agricoltori perché la produzione fresca tende ad avere un prezzo alla produzione molto basso e quindi gli stessi produttori sono poi i protagonisti della trasformazione e i guadagni sono loro. Noi ci manteniamo in una posizione di promozione delle produzioni. Un evento che noi realizziamo al di là di partecipare a varie fiere tra cui il mercato del gusto a Torino, Slow Fish per Slow Food, il mercatino del gusto a Maglie, organizziamo ogni estate i mercatini della terra del mare che sono l'incontro di tutti i presidi Slow Food pugliesi tra cui chiaramente la comunità dei produttori biologici agricoli e i pescatori di Torre Guaceto. Con i pescatori noi adesso stiamo cercando di fare lo stesso discorso cioè di portare dal fresco al trasformato. Abbiamo iniziato un progetto di studio dell'ovodeposizione dei cefali perché Torre Guaceto nella zona della laguna durante il settembre si concentra un altissimo numero di cefali che vengono qui a riprodursi e quindi qui rilasciano le uova e poi escono fuori. Abbiamo da due anni iniziato un progetto di studio della popolazione dei cefali e soprattutto di individuazione del periodo di deposizione, di ovodeposizione, in maniera tale da poter garantire la pesca del cefalo esclusivamente nel periodo successivo alla deposizione delle uova, in maniera tale che i propagoli abbiano la possibilità di crescere e quindi poi di rinnovare la popolazione. Perché il nostro obiettivo non è tanto quello della vendita del cefalo fresco perché ha un prezzo irrisorio, 2-3 euro al chilo, ma di attivare una trasformazione dello stesso e da due anni appunto produciamo in maniera sperimentale perché non possiamo garantire volumi di vendita. Il Muggine Sottolio che viene trasformato in un'azienda che è di Torre Colimena dove anche lì c'è tutto un discorso di produzioni sostenibili perché utilizzano per esempio nelle conservi di tonno non il tonno ma il palamito, quindi cercano di non utilizzare specie che sono a rischio e quindi produciamo questo conservato e il nostro obiettivo è quello di iniziare a creare una filiera produttiva soprattutto garantendo la trasformazione, i processi di trasformazione agli stessi pescatori, quindi con le dotazioni di locali e la dotazione degli stessi di macchinari tali da garantire la trasformazione, proprio perché adesso non sono gli agricoltori a essere fortemente a rischio ma sono i pescatori perché con gli aumenti dei costi dei carburanti ormai il loro livello di sostenibilità economica è ormai al di sotto del livello di guardia, quindi fra un po' già uno lo ha fatto negli anni scorsi, un altro è lì lì, fra un po' i pescatori appenderanno le barche al chiodo e smetteranno di pescare, considerando che non è la piccola pesca costiera quella che crea un reale impatto sulla pesca ma è la pesca industriale, quindi noi in qualche maniera come mercato europeo cosa stiamo facendo? Favoriamo la grande pesca industriale che va in maniera scientifica a colpire gli stocchi ittici e di pochissime specie perché noi mangiamo forse meno di 10 specie di pesce fresco, quindi pescato e stiamo praticamente mandando a morire un settore che invece valorizza specie dimenticate come il cefalo, i sarghi e così via, le triglie che sono specie che non sono invece in pericolo di estinzione, noi ormai mangiamo solamente il merluzzo che non è più il merluzzo di una volta ma sono altre specie e così via. Altra attività che noi abbiamo favorito è quella della fruizione dell'area attraverso attività ecosostenibili, quindi sea watching, visite guidate subacue, chiaramente sempre autorizzate e regolamentate da noi, visite a piedi, in bicicletta e da ormai saranno 9 anni è attiva in maniera gratuita una pedana per disabili appena grossa per garantire la fruibilità dell'area anche ai disabili fondamentalmente motori perché poi sono loro quelli che hanno maggiore difficoltà a poter andare a mare. oppure altre attività è la vela, adesso il casef la eliminiamo come foto, perché non c'è più. Un'altra attività su cui abbiamo investito molto è la creazione di un centro visite, però al di fuori dell'area naturale. Inizialmente questo centro visite doveva nascere proprio appena grossa, noi all'inizio abbiamo lottato molto per portarlo all'esterno e all'interno abbiamo creato un centro visite che cerca di ripercorrere i vari ambienti della riserva attraverso delle ricostruzioni o anche con la presenza degli animali di albero perché abbiamo tre acquari che cerchiamo di mantenere pieni durante l'anno. Una delle esperienze che maggiormente è servita alla gestione dell'area è quella della creazione di un lido attrezzato a conduzione direttamente dell'ente gestore. Questo perché abbiamo dovuto fronteggiare un calo pauroso dei finanziamenti e per poter sovravvivere abbiamo dovuto far nascere delle attività che ci autofinanziassero. Abbiamo creato quindi un lido che è completamente rimovibile a fine della stagione, all'interno del quale poi, questo per creare un circuito virtuoso, all'interno del quale poi vendiamo sicuramente i nostri prodotti, i prodotti del paniere del parco, ma anche prodotti di presidi del territorio, quindi la comunità caseare dell'Alto Salento, il tonno sostenibile, che poi non è tonno appunto, ma il parametro di Torre Colimena, che quindi anche lì è pescato in maniera sostenibile e vari presidi anche dell'area. Questo ci ha permesso di avere un grosso aiuto nella gestione dell'area perché aumenta la quantità di budget disponibile poi per le attività gestionali, quali la sorveglianza, il monitoraggio e così via. Altra cosa che abbiamo fatto è quello di risolvere un problema grave che avevamo negli anni precedenti, in quanto appena ci siamo diventati operativi, la più grossa minaccia che abbiamo individuato e che poi ha portato successivamente a tutti gli interventi di ripristino dei cordoni dunari, era del parcheggio abusivo e selvaggio che c'era nell'area. Penna Grossa, il molo di Penna Grossa, la spiaggia di Penna Grossa era piena di auto, arrivavamo a circa 1200-1300 auto, a Apani anche lì lungo la Falesia erano parcheggiate le auto, anche lì 700-800 auto con grossissimi pericoli di incendio e così via. Considerate che il divieto di ingresso presente tutto l'anno nell'area, nella complanare che costeggia la 379 che porta alla torre fondamentalmente, nacque nel 97 in seguito a un incendio che le macchine entravano, parcheggiavano lungo lo stradone della torre, sopra le canne e così via, ci fu un incendio e si rischiò che tutte quelle auto finissero bruciate dall'incendio e quindi da lì nasce il divieto di accesso, ma il problema degli incendi era un problema enorme perché poi chiaramente il parcheggio selvaggio lo fai ovunque, quindi con pericoli di accensione di fuochi molto alto. Allora quello che abbiamo fatto è individuare due aree al di fuori dell'area protetta dove poter fare fondamentalmente le porte d'ingresso del parco, quindi vieni in volgarmente detto parcheggio, ma lo consideravo proprio una porta d'accesso, lasci la tua auto e da lì hai varie possibilità per visitare l'area, quindi o hai dei trenini che ti portano all'interno o alla spiaggia di penna grossa o all'interno, oppure da lì puoi affittare le biciclette o puoi andare a piedi. Anche questo in funzione di un nostro autofinanziamento. quindi abbiamo avuto la doppia finalità di evitare le minacce lungo tutti gli ambienti costieri, praticamente eliminare il pericolo incendi legato al parcheggio perché tutta l'area è mantenuta costantemente pulita e poi attivare anche delle possibilità di visita più sostenibile disponibili perché si è passata dal trasporto individuale al trasporto collettivo. Altro elemento importante è che noi pur diminuendo i posti disponibili non abbiamo individuato un abbassamento del numero di visitatori, anzi abbiamo notato un incremento, questo ha fatto sì che le persone capissero che non si doveva andare una macchina a una persona, ma adesso le macchine sono piene di 4-5 persone, lasciano la macchina e poi entrano all'interno dell'area. Altra attività è quella di favorire i percorsi ciclabili, siamo adesso inseriti all'interno di un percorso più ampio che è il ciclovia degli olivi proprio perché dobbiamo cercare di diversificare le possibilità di visita all'interno dell'area. Risultati ottenuti, diciamo che dal 2000 ad oggi la persona che frequenta Torre Goceto è completamente cambiata, in due modi, sia le persone che la frequentavano e la frequentano tuttora hanno capito l'importanza della protezione e quindi hanno accettato anche vincoli legati all'area aiutandoci in molto volte in individuare comportamenti scorretti. In molti casi l'utenza è cambiata proprio, nel senso che persone che non hanno accettato questo tipo di vincolo è andata da altre parti, buon per loro, ma è venuta altra utenza con una sensibilità maggiore. Uno degli elementi che fanno notare come l'utenza si è cambiata sono risultati di un questionario che facciamo all'inizio della gestione confrontati con i risultati di adesso. Una delle domande di questo questionario era se si era disposti a pagare per poter parcheggiare, per poter usufruire dell'area. Il questionario diceva no, gli intervistati dicevano no, non vogliamo pagare. Adesso le persone pagano, è un modo brutto, però la moneta ti permette di dare anche un valore alle cose, quindi se tu paghi sai che quella cosa ha un valore. La stessa cosa è se io frequento Torre Gocetto e pago, so che c'è un valore in quello che io vado a visitare. Però è anche vero che il cambio di sensibilità è stato molto importante, perché adesso siamo chiamati dalle persone quando per esempio uno si ritrova, pesca il polpo, ci stanno 20 persone che gli dicono no, non lo fare, non dobbiamo essere noi ad arrivare per dirglielo. Quindi questo è importante perché divenne difficile con una pressione turistica durante l'estate così alta, circa più o meno 100.000 persone che visano Torre Gocetto durante l'estate, avere un controllo costante perché o sei lì o sei dall'altra parte. Quindi invece l'aiuto dei fruitori ci permettono di avere una maggiore efficacia nella gestione. Ultimo slide, crudi numeri, ma anche lì cerchiamo di leggerli in funzione di quello che ci stiamo dicendo oggi pomeriggio. dal 2000 al 2012 noi abbiamo quelli che sono le provenienze del budget annuale della riserva. I primi anni la quota derivante dagli due aree protette, quindi al Ministero dell'Ambiente, era prevalente. con una capacità, questa qui in viola, da parte dell'ente di attivare fondi strutturali, quindi progetti spot, perché chiaramente i fondi strutturali li utilizzi solamente quando hai qualcosa di particolare da attuare ma non puoi utilizzarlo per una gestione ordinare. Quindi lasciando fuori la capacità di attrarre i finanziamenti che è una cosa anche importante perché poi questo si traduce nel territorio con aziende coinvolte e così via. La cosa importante da individuare è il fatto che all'inizio i fondi provenienti dalle aree protette, quindi dal Ministero dell'Ambiente, era predominante. Dal 2005 questa tendenza ha iniziato a cambiare e dal 2006-2007 è iniziato a esserci in maniera molto timida quella parte in giallo che è la capacità di autofinanziamento che via via è andata a crescere, diventando adesso una fetta importante perché se voi notate la quota, tralasciando ripeto la parte in viola che è quella legata ai fondi europei che hanno chiaramente ordini di dimensioni diverse, però la quota delle due riserve rispetto alla quota di autofinanziamento è praticamente paritaria. Quindi noi riusciamo a non dover chiedere circa il 50-60% di quello di cui avremmo bisogno al Ministro dell'Ambiente. Non glielo chiediamo perché comunque non ce lo darebbe, però siamo in grado di produrcelo da soli e questa è una parte importante perché la salvezza per il sistema delle aree marie protette passa anche da questo. E ho concluso. Ci sono domande? Il discorso della palese come lo avete affrontato e se si può risolvere o se c'è qualche progetto? Allora, poi scusami, integro, allora il discorso di Apani, Buagialla, perché è anche una vostra area, ecco c'è il problema con il Buna, se mi puoi chiarire la situazione, se è possibile dirlo diciamo. Diciamo, per quanto posso risponderò. Allora, il primo discorso riguarda la palese, allora in via di massima l'arretramento della fascia costiera è un fenomeno geologico, naturale e il problema è più che altro gestionale, nel senso che tu ti ritrovi che non hai più una fascia demaniale costiera. Riuscire a intervenire da un punto di vista di ingegneria su questo fenomeno non è semplice, perché hai due fenomeni che devi contrastare. Uno è l'erosione proprio marina, quindi l'azione che il mare fa di scalzamento del piede è crollo, scalzamento del piede è crollo. L'altro è la tipologia di terreno a cui ci troviamo di fronte. Considerate che nelle IGM militari, quindi diciamo nelle cartine storiche, quell'area viene chiamata terre rose, perché l'argilla è un terreno che difficilmente riesce a garantire una forza strutturale, perché è vero quando è bagnato, ma è molto falso quando è asciutto, perché tende a creparsi, tende a creare dei punti di discontinuità e soprattutto tende a, come dire, a crollare a fasce. Quello che possiamo fare noi è zero, noi come intergestore, perché non è, dispiace dire, non è una nostra competenza. Dal nostro punto di vista si dovrebbe non intervenire, perché ciò che normalmente tendi a fare è peggio di quello che fai, cioè di quello di non fare, perché tu hai di fronte un arretramento della costa che è naturale, hai un problema di sedimenti, ma è un problema che è generale, una delle azioni che fai è quella di creare delle barriere soffolte. per poter permettere il trattenimento del sedimento, ma è un'operazione che può andare bene per una spiaggia attrezzata, ma per un'area marina protetta può creare dei problemi, anche perché noi abbiamo già un problema nostro di sedimenti che provengono da nord. Se voi fate una passeggiata sott'acqua a Torre Guaceto, soprattutto una profonda, già dai 10-15 metri tu inizierai a notare una tendenza al verdastro come colorazione. Questo perché c'è molta sospensione e la provenienza non è legata alla zona di Apani, ma è legata a nord. Quindi esistono delle fonti di ingressione di sedimenti in mare molto importanti, che immaginiamo possono essere le lame che non vengono manutenute e così via. Quindi con la pioggia il terreno viene portato a mare. Creare delle modifiche, delle correnti marine in quell'area potrebbe innescare dei fenomeni ancora peggiori, perché poi quando crei questo tipo di discontinuità a mare, devi avere un modello matematico di previsione alle spalle che sia di un certo tipo, cosa che normalmente non si fa. Quindi dal nostro punto di vista non possiamo fare nulla, non faremmo nulla. Va gestita la situazione sicuramente da un punto di vista della sicurezza, quindi adesso esiste un'ordinanza, ma quell'ordinanza deve essere fatta rispettare e quindi noi ci aspetteremmo che soprattutto il Comune di Brindisi fosse un po' più presente con le multe, perché chi frequenta quell'area è un frequentatore storico, quindi ha sempre quell'atteggiamento del dire io vengo qui da quando sono piccolo, non mi è mai successo nulla, non mi succederà mai nulla dopo. Diciamo sulla nostra pelle abbiamo capito che l'impossibile si avvera molte volte e quindi noi spingiamo molto con il Comune affinché questo rivieto venga fatto rispettare. Poi so che il Comune sta facendo qualcosa, ma è ancora su carta, quindi ancora stiamo in fase di valutazione. Per quanto riguarda parte sud, allora, una delle due aree che noi avevamo individuato per risolvere il problema dei parcheggi in Apani è quella che lei ha chiamato Boa Gialla, che è l'area servizi Apani. Il problema di area servizi Apani è che non ha un, proprio per il problema della falese, non ha un accesso a mare. Quindi per consuetudine da quell'area c'era un sentiero che portava fino a mare, nell'unico tratto che è possibile con bagnazione libera, che sono 40-50 metri, poi per il resto Apani è in concessione. Il problema è che Apani ha una situazione molto particolare, quindi ci ritroviamo con, per esempio, una concessione demaniale in zone dove diviene anche pericoloso stare al di sotto. Adesso ci stanno un po' di problemi tra di loro, ma quelli sono problemi loro, cioè nel senso di coesistenza, ma non sono problemi su cui noi andiamo a mettere mano. Quello che noi stiamo attivando, ma perché è giusto che sia così, e che in funzione di quell'arretramento che noi abbiamo visto, noi stiamo aprendo un tavolo, abbiamo aperto un tavolo tra la Capitania di Porto e con il Ministero dell'Ambiente che deve necessariamente supportarci in questo, di ridemanializzazione di Apani. Perché ad oggi quella che in teoria è la fascia demaniale è un terreno privato, la fascia di crollo è un terreno privato, quindi va necessariamente ripristinato il demanio marittimo perché è giusto che deve esserci per legge, quindi abbiamo attivato questa procedura in maniera tale che ricreando il demanio marittimo ricreeremo il diritto di passaggio che è necessario che ci sia per poter usufruire in maniera libera del demanio marittimo, cosa che ad oggi è impossibile. Il demanio in questo momento è a mare, è solo mare perché la costa si è arretrata, allora esiste per consuetudine il fatto che la fascia di bannazione o comunque di la riva sia considerata demanio, ma se uno va a vedere le carte non è così, noi lì ci troviamo che praticamente non esiste più demanio marittimo, va ripristinato il demanio marittimo. Come no? In merito al discorso che le stavo facendo prima riguardo alla tutela degli agricoltori e delle loro produzioni, avete creato questo consorzio? Sì, non è un consorzio, è un'associazione. Era molto interessante anche il fatto che molti produttori agricoli vi avessero chiesto di poter far parte di questa associazione, produttori agricoli però esterni all'area marina. Si potrebbe pensare di fare un consorzio che riguardi i comuni di San Vito, Carovigno, Mesanni e Brindisi con gli agricoltori che sono confinanti e che producono comunque olio, pomodori o comunque tutto ciò che possa essere integrato. Allora diciamo che la nostra finalità è quello di promuovere la sostenibilità economica di attività presenti all'interno del parco, perché il nostro obiettivo principale è la conservazione ed ormai sentire comune tra chi si occupa di conservazione, sentire comune il fatto che non si può prescindere per raggiungere gli obiettivi di conservazione, non si può prescindere da chi ha interessi anche contrastanti con i tuoi, legali, perché questa è la cosa importante, perché molto volte devi trattare anche gli interessi non legali e i legali e li devi coinvolgere, perché altrimenti non sarei mai efficace, perché se tu hai un'attività esclusivamente di, viene chiamato di command and control, quindi di io decido, controllo se lo fai, ti faccio la multa, è assolutamente antieconomico. Allora il nostro obiettivo è quello di perseguire la nostra conservazione, che il nostro obiettivo sarebbe quello di avere un'intera riserva, avere un'intera riserva, di avere un'intera riserva a biologico, sappiamo che è un obiettivo utopistico, però il nostro obiettivo è quello di conservare quell'area promuovendo delle attività che sono compatibili. Aprire all'esterno farebbe perdere il valore raggiunto di dire, io sono Torre Guaceto come produttore, io sono Torre Guaceto e vendo il prodotto di Torre Guaceto. Quindi il gioco è quello, cioè quello di creare un prodotto che sia identificabile con un'area e che in qualche maniera sia quell'area a garantire una riconoscibilità. Ci sono molti agricoltori che sono interessati alla produzione di euro. Perfetto, il problema qual è? Che i nostri produttori hanno uno svantaggio rispetto a loro, hanno dei vincoli che loro non hanno. Ma sarebbe quello poter... È impossibile, è impossibile. Quello è impossibile, cioè immaginare di allargare i confini di una riserva terrestre è praticamente impossibile, perché a livello procedurale è una cosa veramente di difficile raggiungimento. Dire che sicuramente dovremmo fare una cosa e sinceramente non per, diciamo, sinceramente ciò che è stato fatto in Puglia negli ultimi anni, l'euro di pianificazione territoriale è in quella direzione. Noi dovremmo esportare il modello di un'area protetta per la gestione del territorio. Io come gestore di area protetta non mi interessa gestire la parte agricola. Mi interessa gestire la parte agricola in funzione di ciò che la parte agricola comporta per le aree a notorietà prevalente, perché io devo regolamentarle in maniera tale che non sia una minaccia. Ma alla fine al gestore dell'area protetta non interessa quello di realmente gestire porzioni ampi di territorio. Interesserebbe gestire gli habitat con un'ottica di conservazione. Noi necessariamente dobbiamo gestire anche altro tipo di attività perché non esiste al di fuori dell'area protetta un modello di gestione che garantisca la protezione degli habitat. Se si arrivasse a gestire il territorio non ad avere le macchie nere con le aree protette e il bianco di aree con una gestione assolutamente sostenibile, se si potesse arrivare ad avere il nero molto più ridotto e un grigio intorno, allora saremmo più felici tutti quanti, perché avremo bisogno di meno soldi per gestirle, sarebbe più semplice controllarle, sarebbe più semplice attuare programmi di reale conservazione, ma avendo garantito che all'esterno, nelle aree esterne all'area protetta, quindi agli habitat parliamo protetti, ci fosse una gestione che fosse sostenibile. Quando arriveremo a quel modello, allora saremmo tutti contenti, ma ci dobbiamo arrivare. L'obiettivo è quello di esportare il modello di gestione del territorio di un'area protetta anche al di fuori dell'area protetta e quindi passare dal concetto di oasi, che è un concetto bruttissimo e vecchio, a un concetto di gestione integrata e sostenibile del territorio. A quel punto tutti gli agricoltori produrranno bio, se gli conviene, ma ad oggi io devo focalizzare sui produttori del parco perché hanno dei vincoli che al di fuori non hanno. Considera però un altro aspetto, che il bio non è comandato da noi, nel senso che noi nel nostro regolamento non abbiamo assolutamente detto che devono produrre in bio tutti, se volete aderire a questo disciplinare volontario e dovete produrre in bio, che è diverso. Gli altri continuano a produrre secondo le regole, secondo le leggi. Chiaramente alcuni devono essere beccati se non lo fanno secondo le leggi. Ok, ringrazio Francesco De Franco che ci ha illustrato le attività svolte dal consorzio di Torre Guaceto, quali sono? Ci ha dato degli spunti anche di sviluppo, per esempio quello sulla mobilità, che era importantissimo, quindi dalla mobilità individuale a quella collettiva, con il trasporto, intanto dal parcheggio all'area protetta, però mi veniva in mente anche la possibilità di poter pensare ad una mobilità dalle città. Con l'STP un anno a fare un servizio del genere, però l'STP non ce l'ha fatta a reggio dell'economica, perché era poco utilizzato. Dovremmo sicuramente arrivare anche a questo. Forse c'è bisogno di uno sforzo anche in questo senso, anche perché sta cambiando anche la sensibilità della gente, forse stanno cambiando anche le esigenze di costumi, volendo anche per la situazione economica che sta modificando le nostre abitudini, quindi forse può essere un punto da sviluppare. Il problema rimane sempre quello di garantire sostenibilità economica a questa fine. È chiaro. Ormai tutti dobbiamo operare secondo quell'ottica, cioè fai un'azione ma deve essere sostenibile a livello economico in futuro. Sì, vabbè, è tutto in chiave di sostenibilità economica. Ok, allora grazie, grazie. Io intanto do il benvenuto a Maurizio Manna. Allora, oggi la tematica che viene trattata nella giornata di oggi da programma mi pare ben interpretata da questo powerpoint che abbiamo realizzato come circolo degli ambienti di Gallipoli in occasione della presentazione senestrale delle attività che esercitiamo nel parco regionale di Sant'Andrea Punta Pizzo in convenzione con l'autorità di gestione. Perché in effetti quello che oggi è fare attività di turismo responsabile, ma anche quello che è il ruolo di un'associazione e un modo anche intelligente particolare di praticare turismo sostenibile in area parco, sicuramente è quello che noi cerchiamo di fare, a volte con successo, in questo parco regionale che ha delle caratteristiche abbastanza, diciamo, peculiari da una parte, ma che interpreta in sommo grado quelle che sono le vocazioni delle nostre aree protette costiere. L'alco regionale di Sant'Andrea L'alco regionale di Punta Pizzo è nato nel 2006, ma culturalmente dal punto di vista dell'attività associativa è nato nell'89-90, allorché come gran parte delle coste salentine è stato oggetto di assalto speculativo, è successo nell'area del Tarantino, Porto di Sare, Urgento, di e più, diciamo, lungo il litorale ionico nella situazione di Gallipoli, dove una serie di congiunture politico-economiche hanno rischiato di farne il comprensore turistico più affollato e pesantemente degradato della nostra costa. Bene, quest'area protetta attualmente che è composta di circa 650 ettari di costa, quasi del tutto non urbanizzata, è un caso più unico che è raro, non quella costa salentina, per motivi abbastanza interessanti, perché sono poche grandi proprietà, perché in quell'area si è praticato il contrabbando, è stata l'unica area, diciamo, postiera dell'Oionio dove veniva praticato regolarmente il contrabbando perché dal punto di vista logistico era facilmente raggiungibile, quindi in alternativa al traffico sul Adriatico negli anni 70-80 si praticava il contrabbando a Punta Pizzo e quindi la malavita organizzata locale aveva interesse e a che lì non ci fossero speculazioni, in qualche modo in accordo o in contrasto con le proprietà non fecero partire all'epoca per organizzare la speculazione diffusa, ugente a quella organizzata, diciamo, dei grandi gruppi stranieri di investimento con i villaggi, diciamo, della Robinson, Victor, eccetera. Quindi da lì quella è rimasta fino all'inizio, a metà degli anni 90, un'area stranamente, dicevano, noi sapevamo bene perché, non toccata dalla speculazione di inizia. Gli anni 90 un grosso progetto, un accordo di programma, si usavano allora in deroga alle norme urbanistiche, prevedeva improvvisamente cinque grandi villaggi inseriti nella programmazione urbanistica, seppur in deroga alle norme, e lì ci attivavamo come associazione, all'epoca erano pari pochi che erano gli unici che affrontavano queste situazioni, non esisteva ancora quel movimentismo, quella capacità di reazione più diffusa che oggi non consentirebbe probabilmente un'operazione del genere. Allora fummo quasi soli contro questa situazione e l'affrontammo arrivando in un certo qual modo con vertenze e interventi in conferenze di servizio, piuttosto che proprio in pianificazione, in osservazione di strumenti urbanisti, siamo riusciti a impedire l'urbanizzazione. È nato un parco di cui ci siamo assunti la responsabilità anche nel momento in cui in fase gestionale bisogna capire cosa fare nel parco, soprattutto come frutto di un'area che attualmente nei weekend estivi attrae intorno ai 20-25 mila utenti, su un arco di costa di circa 6-5 chilometri e mezzo, quindi una densità molto alta, nonostante non ci siano strade litorane, nonostante sia un luogo in gran parte poco raggiungibile. Allora la sfida era che tipo di turismo far fare all'interno, o meglio incentivare, cosa disincentivare, perché non è che chiaramente come associazione né come entepatto si possa intervenire nel vietare o nell'ordinare questo piuttosto che quello. L'idea era quella che nel 2004, circa due anni prima della costituzione dell'area protetta, a che adesso noi pensavamo di cominciare a realizzare dei campi di volontariato all'interno del parco in maniera sistematica nel periodo di avvio stagione. Anche quest'anno li comincieremo lunedì, dal primo di luglio e siamo in grande fermento per organizzare tutto l'Ambaradan. L'idea era quella di portare giovani o famiglie di turisti dall'Italia per praticare una vacanza responsabile ma anche dare il buon esempio, cioè far capire quale può essere un modo di comportamento in un aeroparco attivo che dicesse si fa questo meglio evitare altro. Questo è il decimo anno in cui noi predichiamo questa esperienza e quello che ci interessa in questo contesto oggi è capire come può funzionare un'esperienza di turismo responsabile, sicuramente a pieno titolo i campi di volontariato sono un'esperienza di turismo responsabile, ma anche e soprattutto come questa esperienza possa stabilire intanto dei criteri di qualità e far tracciare strade per i turisti con più o meno coscienza ambientale di comportamenti in un'area parco. E devo dire che i risultati a 10 anni di distanza dalla via dell'esperienza sono stati e sono molto incoraggianti tant'è che questa presentazione che presentiamo annualmente alla fine dell'esperienza davanti al periodo invernale, ha visto la partecipazione dell'assessore Barbanente piuttosto che dei sindaci del comprensorio perché è diventato un esempio di best practice, di buone pratiche all'interno di un'area parco, basata essenzialmente su un volontariato attivo. Allora, innanzitutto e poi tra l'altro un campo di volontariato dà strumenti di indagine, come vedremo di carattere di rilevamento dei fattori di rischio piuttosto che dei detattori ambientali, ma anche ad esempio delle dinamiche sociali che nessun altro strumento è in grado di fare. E vedremo anche in che maniera. Quindi stiamo in grado di intervenire con l'esperienza e i risultati, i dati che emergono da un campo di interiato nella pianificazione territoriale, quindi urbanistica, ma anche e soprattutto in quella socio-economica, cioè nel famoso piano pluriennale socio-economico che stabilisce come gestire i flussi, quali progetti avviare, quali attività economiche consentire addirittura incentivare all'interno dell'area parco. E ci si può arrivare con un'esperienza di questo tipo in cui capiamo esattamente cosa funziona in un parco e cosa invece potenzialmente porta a fenomeni che vanificano gli strumenti di potere. Allora, le attività che noi esercitiamo all'interno del parco sono i campi di volontariato, il reinserimento sociale con un'associazione di ragazzi che hanno problemi di ordine sociale, quindi ci sono andati dall'ufficio appare sociale del comune piuttosto che dal distretto scolastico o molto più spesso dal tribunale, perché sono ragazzi che hanno bisogno di un inserimento o di un'esperienza positiva all'interno. E queste sono delle attività che noi facciamo. Gli open days di Puglia Promozione sono un'altra delle attività che realizziamo, sono in realtà servizi al turismo avanzati e poi ovviamente la nostra presenza all'interno del parco ci consente di rilevare direttamente i risultati di quello che facciamo, di monitorare i risultati. I campi di volontariato che noi realizziamo hanno portato all'interno del parco circa 500 ragazzi, quindi numeri di tutto rispetto, per i 15-17 anni, perché i nostri sono campi per ragazzi minori, quindi hanno una valenza aggiunta, nel senso che noi portiamo ragazzi che sono in fase di formazione, quindi molto utili a chi viene, ragazzi paganti che fanno il turismo proprio a tutti gli effetti, pagano il loro alloggio, il loro vitto, pagano la loro vacanza, però una parte del tempo la dedicano al lavoro all'interno del parco e soprattutto sono il settore di età, il segmento di età che più riesce a comunicare attraverso i propri comportamenti, perché un assiaggio pulito da ragazzi di 14 anni, di 15 anni o un'osservazione, un richiamo a volte anche a comportamenti legali o legittimi all'interno dell'area per chi non li adotta, da un ragazzo di 14-15 anni a tutt'altro valore che lo facesse un volontario adulto o addirittura un'autorità. Un ragazzo di 14 anni riesce a comunicare in maniera positiva perché è proprio per definizione un soggetto, un individuo pulito, positivo e in grado di comunicare comportamenti disinteressati e positivi e quindi da imitare, da recepire senza retro pensieri, senza strumentalizzazione, è molto importante sia per i ragazzi ma anche per chi riceve il messaggio. E' molto formativo per loro ma anche per i fruitori del parco in assoluto, sia ragazzi a loro età sia adulti. Una delle attività che loro fanno è anche il rilevamento delle infrazioni, se ci sono motorini, vi è dato ovviamente come in tutti i parchi entrare con mezzi motorizzati, loro sistematicamente, sia di un gruppo abbastanza numeroso di ragazzi, sono circa 20-25 per gruppo per 20 giorni, due gruppi diversi, 10 giorni più 10 giorni, del primo al 10 e poi dall'11 al 20, loro fanno tra le attività il rilevamento delle infrazioni, quindi se ci sono motorini, in questo caso una fotografa di motorini con le targhe, gli hanno lasciato un bigliettino, c'è scritto gentile signore, lei ha lasciato il motorino fuori, la prossima volta che lo troviamo, la seconda volta che quindi c'è una professione informata, premeditata questo diato, noi lo comuniceremo alle forze dell'ordine, cosa che si fa con la foto e con una vera e propria scorsa denuncia, e vi posso garantire che dalle centinaia di motorini che c'erano prima che cominciassero i campi, adesso, nella giornata media di agosto si trovi 5 motorini nel campo, su 7 km di costa, è anche troppo, quindi abbiamo raggiunto risultati estremamente alti, e più o meno sono sempre gli stessi, perché sono ovviamente persone che non hanno molto da perdere, però abbiamo individuato una serie di emergenze che stiamo affrontando chiaramente, graduando le iniziative. Ancora, una cosa molto importante, i campi che realizziamo sono all'interno della rete dell'antincendio boschivo, delle iniziative nazionali, per prevenire i vincendi boschivi. I ragazzi fanno un vero e proprio corso all'interno del campo, praticano eserciti e una prova, ricevono un attestato, ma soprattutto dalle 9 di mattina alle 6 del pomeriggio, per 18 giorni, perché sono i cambi chiaramente, garantiscono un servizio antincendio reale all'interno del parco attraverso due postazioni, una elevata panoramica sulle parti interne del parco e l'altra invece sulla costa, per sorvegliare la parte al mare della Pineda, quindi eventuali inneschi di fuoco che vengano dal mare verso l'entroterro. E vi posso garantire che all'inizio io pensavo, pensavamo noi come organizzatori, che sono un gruppo che organizza i campi, che li sta presto di responsabili, pensavamo fosse una delle attività, tra quelle previste, meno piacevoli per i ragazzi, perché devono stare molte ore in zone molto assolate, per quanto chiaramente con le adeguate protezioni individuali, ma è un lavoro abbastanza pesante, soprattutto con 40 e più gradi di temperatura all'inizio di luglio. Invece è stata una delle attività in cui i ragazzi hanno avvisato la responsabilità come un fattore di grande gratificazione, cioè essere in grado, come è successo, di individuare, due volte era abbastanza esilarante il fatto che non fossero ancora in grado distingue un trattore che era per fare l'antincendio, quindi il fumo che si sviluppava, la polvere si alzava, pensava fosse un incendio, allora con il loro VHF chiaramente all'inizio eravamo noi il tramite con la rete di allarme col 1515, per cui loro chiamavano noi e l'incendio andavamo a vedere, in realtà non era niente di che, però in un paio di casi sono intervenuti tempestivamente in due incendi e quindi per loro è stato il massimo risultato, del loro campo, della loro attività. E soprattutto insieme la sera facciamo il report, le relazioni, dove c'era il punto di fuoco, a che ora, che superficie era stata interessata dall'incendio e come vedremo alla fine della stagione la mappa degli incendi del parco è praticamente un unicum, solamente la forestale ha un archivio di quel tipo, ma quello che noi abbiamo fatto era capire, mettendo in rete l'attività dei ragazzi nei punti di osservazione, chi sul territorio verificava che tipologia di persone erano in quel momento, in quel tratto di territorio, capire in realtà quali gruppi sociali applicavano il fuoco e per quali motivi, cosa che nessuna relazione del corpo forestale o dei vigili del fuoco è in grado di fare, perché quello che fanno questi campi è una scansione a più livelli di quella che è la realtà di un parco nel periodo estivo o nel periodo di maggiore rischio, cioè mettere in rete la vigilanza sulle attività che succedono, la comunicazione formale e informale con i fruitori e l'osservazione, come in questo caso molto rigorosa, molto parametrata di quelli che sono i punti di fuoco, l'avvistamento, ora, perché e come. Mettendo, sovrapponendo questi livelli di lettura, noi siamo stati in grado di capire chi, come e quando fuisce del parco e perché alcuni fenomeni si verificano e da parte di chi, in maniera più o meno diretta, quasi nominativa. Ed è una cosa, esperienza molto molto interessante che stiamo mettendo un po' in una sorta di format da applicare anche ad altri parchi. Ecco, un'altra cosa che fanno i ragazzi, ancorché fare una vigilanza un po' della risposta, delle regole nel parco, mettiamola in questi terri, e l'antincendio e la pulizia, che noi esercitiamo con due chiavi di lettura, può essere vista questa attività. Una, lì dove non ci va veramente mai nessuno a pulire, cioè zone dove, come dire, giuridicamente è difficile che qualcuno vada a pulire, perché sono tratti di domani molto distanti dalla viabilità, quindi di difficile accesso da parte dei mezzi di una tese urbana, o poco fluidi dalla gente, per cui nessuno se ne lamenta fondamentalmente, perché non sono spiagge dove ci va molta gente. E quindi, come dire, l'amministrazione, l'autorità responsabile non sente l'urgenza di farlo. Allora, in quel caso noi andiamo a ripulire tratti di scogliere i territori, che sono quelli più estremi del parco, dove è anche difficile arrivarci, perché a piedi ci devi mettere un chilometro e mezzo, un chilometro prodotto, è difficile arrivarci e fondamentalmente non importa granché se è sporco alla gran parte delle persone. Noi andiamo a pulire, proprio perché non se ne pide a cuore nessuno, è un dovere nostro, come gruppo di lavoro, intervenire in dove nessuno andrebbe a intervenire. Un'altra chiave, che è più sociale, e invece è molto interessante, è quella di creare dei gruppi di responsabili, di autoresponsabilità in spiaggia. Che intendiamo? Il primo giorno di ogni campo, il modo migliore, il secondo giorno è che il primo fanno una passeggiata per conoscere il territorio, sono ragazzi che non conoscere i parametri, come uscire fuori dalle situazioni, come orientarsi nel parco, capire come funziona il luogo. Il secondo giorno facciamo una pulizia di un tratto campione molto affollato, invece, perché ci interessa comunicare con chi è su quel luogo che la qualità della loro spiaggia non dipende da un'ipotetica autorità, non dipende da una nettezza urbana, dal governo ladro che non pulisce la spiaggia, ma essenzialmente dei ragazzi che pagano per farsi una vacanza e vengono da Torino, da Milano, da Nuoro, vengono a pulire la loro spiaggia. E questo, come devo dire, da una parte li sorprende, a volte li mette in conflitto con se stessi, com'è che non l'abbiamo fatto prima, come devono venire questi da fuori per pulire la spiaggia che noi, con i nostri bambini, utilizziamo sia pure per quella settimana dieci giorni di vacanze, perché la maggior parte, la tipologia di gente che frisce di questo parco è un po' vedremo per zone, a volte prevalgono i locali che vanno da mattino, parati, da resi vicini, vanno a fare il bagno lì da generazione, sentono poi i padroni e quasi dicono ma chi siete voi che venite a casa nostra? Ma l'altra metà è sempre di più, per la verità ormai sono ben più del 50%, sono turisti in gran parte nord italiani e sempre più stranieri. Per cui la cosa è quasi spontanea da parte loro è immediatamente alzarsi, pulire e il giorno dopo partirevano un cartello, grazie, ci pensiamo noi, in senso positivo, cioè dire grazie per quanto avete fatto, per quello che ci avete comunicato e quindi si autoattivano. Ma la cosa più paradossale che ci accade spesso è che a fine stagione noi torniamo senza insegne, i ragazzi hanno tutti la maglietta, chiaramente comunicazione anche quella, con il cigno da rega ambiente, volontariato eccetera, ci andiamo noi da monitoratori a settembre, senza insegne e ci facciamo i nostri giri in bici come qualsiasi biker o trekker ordinario per capire come funziona. E vediamo che molte di queste quasi tutte sono pulite anche a settembre, senza che ovviamente un solo netturbino sia andato a pulirle, ma da sé. In realtà la gente che sta lì dice, il ragionamento che ci fa, dice che c'erano quelli gialli che pulivano, gli gialli sono diventati come dire un'entità mitologica, perché gli gialli erano i ragazzi, ma il passaparola, c'è un po' il gioco del passaparola, gruppo dopo gruppo, gente che viene da Dublino piuttosto che da Domodossola va lì e non conosce chi stava prima di lui, però si passa una parola che si usa a fare così, perché c'erano questi mitologici esseri gialli che pulivano e a settembre trovi tutto bello pulito, i sacchi sempre lì, sempre a noi tocca portarli via che non ci avrà mai nessuno, però si autopuliscono dalla spiaggia. Ed è una dinamica molto positiva, perché è una dinamica di responsabilità non solo come ci aspettavamo noi all'inizio, che sia il residente, il locale che ci sta tre mesi su quella spiaggia a tenerla pulita, ma anche chi sta una settimana, dieci giorni e avvisa un senso di responsabilità stretto e diretto, anche se su quel pezzo di spiaggia è solo per quei giorni. Cioè vi è un'affezione immediata a quel tratto di territorio, perché si ama e si ammira, se ci sono fatto mille o due mila chilometri per andare vivo, direi che un tirato di costa molto bello, ma dalla bellezza, alla tutela di quella bellezza, alla responsabilità, il passaggio è breve se c'è un innesco dal punto di vista morale, culturale, quale può essere quello di questi ragazzi che appunto lo fanno e pagano, tra virgolette, per farlo, perché nessuno li paga. È una cosa molto interessante che sta migliorando molto il livello di qualità del parco, quant'è che quest'anno noi pulizie ne faremo solo due esemplificative in due spiagge e il resto del lavoro si sposteremo su altri obiettivi, di cui parleremo fra un po'. La comunicazione è un'altra delle attività che fanno in genere i ragazzi che sono più portati per questo tipo di attività, con cui promuoviamo le attività di carattere turistico, le open days che facciamo nel parco, che ogni venerdì ci vedono impegnati con una passeggiata naturalistica, uno snorkeling piuttosto che una passeggiata in bici, noi abbiamo un certo numero di biciclette nostre proprio con un'associazione che mettiamo a disposizione del parco, per cui ogni venerdì la gente sa, tutta la gente del parco sa, che ci si trova gratuitamente, si fa un giro in bici di un paio d'ore e dopo si beve il vino del parco, il formaggio che facciamo col pastore che ha imparato a non bruciare in piena estate, piuttosto che il miele che facciamo nella macchina eliterranea in prossima della torre e sanno di trovare i sapori del parco subito dopo questa esperienza che è anche olfattiva e anche diciamo visuale di escursionismo nel tardo pomeriggio, dalle 6 alle 8 in genere lo facciamo noi quasi a limbrunire e dopo di che si ritrova in un posto attrezzato dove abbiamo i tavolini per la degustazione e una parte dei ragazzi preparano proprio la degustazione, imparano anche il modo di preparare le frise, le bruschette nostre, mettendoci le mani i ragazzi di Bergamo che fanno le frise è una bella lezione di antirazzismo, perché sono orgogliosissimi di essere i rappresentanti di un territorio che imparano a amare sporcandosi le mani e la gente, perché dal punto di vista del turismo ci interessa rimanere nel tema del fatto che questa è un'offerta turistica di qualità all'interno del parco e le fanno turisti, i giovani turisti fanno, promuono presso altri turisti attività, servizi turistici molto elevati perché noi portiamo esperienze conoscitive di alta qualità, perché poi le guide le facciamo noi che abbiamo fatto un po' tutta la serie del parco e conosciamo un po' sia la parte storica che naturalistica in maniera molto dettagliata, ma anche tutta la parte gastronomia locale e il muoversi a basso impatto nel parco vengono sintetizzati in queste giornali di open days che catalizzano l'attività dei ragazzi dalla mattina fino alla sera, perché curiamo il sentiero, verifichiamo che la segnaletica sia a posto, andiamo a fare la spesa per il contadino, facciamo tutto quello che serve perché poi dalle 5 e mezzo in poi fino alle 8 e mezzo, alle 9, succedono una serie di cose, quindi un porto turistico fatto da ragazzi che imparano a fare anche turismo di qualità sul territorio e che sono diventati su un territorio molto attrattivo con le catipoli impegnativi, perché non sono più solo i turisti che fluiscono del parco a venire, quindi fai conto mediamente dai 50 agli 80, ma quando lo si sa in paese, che a Ripoli in agosto, diciamo in luglio lo facciamo nei campi, ha una capienza di 100-150 mila turisti, che vuol dire che come niente arrivi a 200 persone e non è facile gestire, dobbiamo fare il numero giusto a un certo punto, però diciamo che è un prodotto che si è ricavato una sua tipicità, una sua unicità in un comprensio turistico molto molto fluido. Quindi un parco può dare servizi di qualità ad un turismo che non è solo quello che cerca la natura, ma anche quello balneare, quello del rischio, cioè crea un ambito di esperienza all'interno della propria esperienza di vacanza peculiare che è sempre più ricercato, è sempre più ambito. Questa è la sistemazione dei ragazzi, un cenno proprio allo spirito con cui noi facciamo questa esperienza, soprattutto per i ragazzi, perché l'educazione alimentare, lo scoprire i propri limiti, vivere in condizioni di maggiore difficoltà che erano in casa, quindi vivere in tenda, non avere l'aria condizionata, avere spazi ridotti nell'ambito del campo, dover rinunciare alla Coca-Cola, alla Nutella, perché non sono ammessi nel campo, ne facciamo l'educazione alimentare, quindi bevono acqua di rubinetto, acqua pubblica e capiscono cos'è l'acqua pubblica e mangiano cose sane, mangiano il miele, mangiano la marmellata fatta con... ma ovviamente la Nutella è off limits nel campo, che forse sembra una cosa un po' da Auschwitz in effetti, perché una ragazza dice come togli una Nutella, però per noi è molto importante, per capire ragazzi in genere urbani, che vengono in realtà urbane, quindi come devo dire, in cui la Nutella diventa il surrogato di un'affettività che viene a mancare in famiglie disgregate, come devo dire, altri valori che non sono quelli, cioè un attimino mettiamo in piedi una scala di valori, una rete di valori in termini dei ragazzi sono la solidarietà, la comprensione, il raggiungimento di un obiettivo, una serie di cose che sono molto molto motivanti, che dopo i primi giorni, come devo dire, diventano una regola condivisa nel 99% dei casi, è rarissimo che i ragazzi si lamentino di questa situazione o dicano voglio andare bene a casa, anzi, ogni anno il problema è evitare che ne tornino troppi dei campi precedenti, perché sono moltissimi che chiedono di tornare e per regolamento noi possiamo prendere le foto se hanno 18 anni, non tornano la seconda volta nel campo, perché dobbiamo, come dire, evitare che ci siano anziani e meno anziani nel campo, è una questione proprio di dinamica interna del campo, altrimenti si creano figure non previste dal punto di vista della gestione di dinamiche di gruppo. Quindi sono ragazzi che maturano l'esperienza che condividono molto e che li vedono molto partecipi, per cui anche la solidarietà è molto importante. Per esempio, questa è la postazione antincendio postiera, diventa un punto di riferimento per tutti i ragazzi di colore che in quel periodo sono veramente centinaia, vendono le loro merci lungo la costa, loro vengono a bere da noi, vengono a stare, vengono ben accolti in genere da ragazzi che vengono da zone altamente leghiste, cioè molto, diciamo, prevenute rispetto a una socializzazione con gruppi sociali che non sono esattamente riconducibili alle loro tradizioni parane o italiane, invece i ragazzi, come dire, imparano ad avere confidenza con questi ragazzi, capiscono di avere gli stessi interessi, il stesso modo di sentire e diventa, come dire, anche quello è un ambito di esperienza molto interessante e nell'ambito del parco diventano un punto di riferimento importante, qui fanno un antincendio perché non è da trascurare che questi ragazzi facendo vacanza sviluppano una quantità di lavoro notevole, perché considerate che a fine esperienza, dopo 20 giorni, 18 di lavoro attivo, si sviluppano qualcosa come oltre 4.000 ore di lavoro, 4.000 ore di lavoro conosco poche cooperative in grado di sviluppare, in 20 giorni, una quantità di lavoro del genere, lavoro che vi posso garantire per partecipazione e coinvolgimento è di alta qualità, i ragazzi spesso dicono sì, io alla una devo andare a mangiare, ma qua chi ci rimane a fare questa cosa, ci vediamo stasera, considerate che una parte, un quinto livello di lavoro, un quinto ambito di lavoro è garantire la cucina per gli altri, garantire la pulizia delle tende per gli altri, cioè mettersi a disposizione del gruppo e anche quello è altamente educativo perché molto spesso questi ragazzi non sanno farsi un letto, non sanno farsi un caffè, non sanno lavarsi una tazza, quando vanno via hanno lavato le tazze per tutti, hanno lavato la tenda a tutti, hanno sistemato la tenda a tutti e se non lo fanno si sentono responsabilizzati rispetto agli altri, quindi è una cosa, un'esperienza molto molto interessante, ma senza sopravvivere l'effetto interno al campo vediamo che questi sono gli eserimenti sociali che sviluppano anche un certo numero di ore di lavoro notevole, ecco la parte più mirata al turismo che noi sviluppiamo anche grazie ai campi volontariati è proprio l'esperienza degli open days che noi attuiamo dal primo di luglio ogni venerdì quest'anno, questa è la locandina dell'anno scorso, ogni venerdì dal primo di luglio al 30 di settembre, per cui c'è un'esperienza di biking all'interno del parco e altre, snorkeling eccetera, con numeri diciamo abbastanza considerevoli, considerate che quelli che hanno aspettato di iscrizione, in realtà poi gli partecipanti sono tantissimi, sono stati 267, quelli che hanno regolarmente firmato i moduli di customer satisfaction, chiamiamo così, di pubblica promozione, in realtà sono stati molti molti di più, diciamo noi abbiamo valutato circa un migliaio di persone, nell'ambito diciamo dei mesi di maggior astuce che sono ovviamente luglio agosto, con serate veramente considerevoli anche come, anche qui diciamo ci sono stati sviluppati dei numeri come ore lavoro e retribuiti all'interno dell'attività del parco, gli open days 2 sono quelli un po' altri tipi di attività che comportano i servizi, quindi la barca per andare sull'isola di Sant'Andrea piuttosto che il cavallo per fare aerea e quindi sono a pagamento a differenza degli open days ordinari, quelli del programma che hanno per la regione che è completamente gratuito per i fruitori, in questo caso facciamo bike, fase naturalistica ma soprattutto la sigla da cavallo e visite guidate con trasbordo in barca, quindi queste le ultime due sono a pagamento e c'è tutto un programma di attività prevista nell'ambito del parco che giustiamo noi, chiaramente noi garantiamo anche come associazione la manutenzione ma la cosa che ci interessa di più è capire chi fruisce nel parco e non lo potremmo fare senza la presenza dei ragazzi e ci dà anche una serie di indicazioni molto precise e interessanti sulla zonizzazione e sui criteri di scelta che hanno le varie fasce, le varie categorie di fruitori rispetto alle caratteristiche del parco. Un parco costiero molto fluido, molto accessibile perché nessun punto dista dalla strada, in alcuni punti sì, nella maggior parte del parco non dista più di 200-300 metri, c'è solamente Punta Pizze che va fuori di oltre un chilometro di 800 metri per cui è la parte meno fila perché non ci arrivano facilmente, ci vanno solamente i tedeschi e gli scandinavici e basta, perché hanno le bici arrivano fino in fondo a fare il bagno. Allora, cosa abbiamo rilevato? Che ovviamente la maggior parte della presenza nelle domeniche, soprattutto a Ferragosti e a Passa Lorenza, sono locali perché interi paesi si trasferiscono all'interno del parco e hanno dei comportamenti ovviamente molto rospanti, cioè si organizzano in tribù di famiglie, invadono e delimitano interi tratti di pineta anche con pettucce bianche e rose, c'è già la prima serie di pineta, cosa che negli anni via via abbiamo contenuto moltissimo, inizialmente venivano addirittura con il barbecue per arrostire, cosa che ovviamente è pesatissimo fare in pineta e quello già da un paio d'anni non succede più. Rimane però l'idea di venirsene con le sdraie, tavoline eccetera e pigliarsi pezzi di pineta per, ovviamente la soluzione che ne abbiamo proposto è quella di sostituire questa situazione spontanea con i tavolini organizzati, con delle situazioni in cui noi ti facciamo trovare le staccionate ma diciamo dove farlo, come farlo e darti anche i servizi, tra i più banali dei servizi igienici mancano in un parco che contiene 25 mila persone i bagni pubblici, che è una cosa incredibile, immaginate uno stadio o un cinema o un bar senza un bagno ebbene un posto che ufficialmente è pubblico e attrae 25 mila persone, non si è curato mai nessuno, né nel te parco né nel comune, di dire mettiamo dei bagni chimici, per dirlo in maniera molto semplice. E le conseguenze ovviamente sono quelle che nel monitoraggio dei rifiuti, quindi il monitoraggio è una delle cose più importanti, un altro gruppo di fruitori, sono i giovani che da mezzo mondo praticamente ormai, vengono dalla Francia, vengono da tutto il mondo ormai, si accampano in tenda lungo le coste salentine in genere, nel nostro parco purtroppo un po' di più perché abbiamo grossi attrattori che sono locali dove si fanno grossi concetti, se ci abbiamo manucciato si prevedono 12 mila ragazzi, 12 mila ragazzi sono un paese che si muove, il 90% verranno a fare delle tende nel nostro parco, per cui non già da adesso abbiamo dovuto prevedere delle tariffe molto basse nei campeggi per incentivarli ad andare a 3 ore a notte, a 5 ore a notte al massimo a stare con dei servizi igienici con un minimo di decenza e di tranquillità, senza che ti rubino magari qualcosa che succeda e quindi stiamo provvedendo un attimino a dirottarli, noi da parte nostra chiaramente facciamo una vigilanza abbastanza, però ecco anche questo fa virgoletta il turismo e anche questo può essere invece un fattore di degrado molto molto grave per il parco perché la maggior parte dei micro incendi che si sviluppano nascono proprio dai fallò che questi ragazzi organizzano, magari strappando il ginevro piuttosto che piante spontanee e poi tutta una serie di fenomeni ovviamente di ordine pubblico, fra virgolette, tutta di sicurezza per i ragazzi crea situazioni di grande gravità perché ci sono casi in cui si consuma troppo alcol insieme ad altre sostanze e questi ragazzi vanno incontro a rischi, si affogano in mare che sono figli di coscienza e vanno a finire sotto una macchina sull'editoranea, sono oggetto di attenzioni da parte di soggetti poco raccomandabili, le ragazze si trovavano in un cassonetto che individuano l'anno scorso, meno male che i neturbini si sono resi conto che c'erano due piedi che uscirono fuori mentre altrimenti la compattavano, per dire succedono cose e il parco proprio perché è un posto dove tra virgolette c'è spazio, è libero, non è in concessione perché non ci sono spiagge, automaticamente diventa un attrattore e il tan tan comunicativo di questi ragazzi ne porterà sempre di più. Quindi una delle cose che noi stiamo stabilendo già da ora nel regolamento del parco, deriva da questa esperienza, è quello di dare delle alternative varie economicamente in strutture autorizzate e in futuro di creare anche delle aree di campeggio libero conservizio all'interno dell'area parco, lì dove adesso ci sono aree agricole quindi con situazioni relativamente di basso impatto che possano contenerne il numero, chiaramente garantendo, disincentivando con determinati parametri il fatto che poi tutti quanti vengono lì, quindi stabilitiamo anche noi dei prezzi per poterci entrare, in particolare il calzamenti ovviamente verranno tutti quanti lì. Ecco questo è un altro dei ratti incredibili, un altro delle aree è particolare perché è un'area dove ci vanno quasi tutte le comunità d'Europa di omosessuali, si trova in una parte precisa del nostro parco ed è uno dei posti più noti al mondo, vengono anche dalla Svezia, dagli Stati Uniti, dal Canada ed è circa un chilometro in cui ci sono solamente gay. Non è una nota di colore, è una dinamica, perché quando tu parli di circa 2.000-2.500 persone che hanno un modo particolare di fruire il parco è una richiesta di servizi, è una richiesta di pianificazione, perché sono una comunità piuttosto esclusivizzante, non tollerano molto che ci vadano le famiglie o ci vadano altri gruppi, per cui tendono un po' a avere reazioni dicendo questo è spazio nostro, non venite qui. Ovviamente si chiamano dei conflitti perché si chiamano delle famiglie, anche magari locali, abbastanza divaci anche dal punto di vista caratteriale, dicono tu qua a casa mia non ci vieni, te ne torni a Milano. Noi chiaramente siamo molto equilibrati come ruolo, come associazione, pensiamo che ognuno abbia diritto di fruire nei limiti e nei termini in cui poi non va a creare conflitto con altri, cioè in cui manca di rispetto per la dignità e la libertà degli altri. Per cui alcune aree stiamo dando servizi attrezzati che incentivano la presenza di famiglia, per cui è una dinamica di incentivazione. Altre invece lasciamo senza servizi perché senza servizi sarà meno facile, sarà meno attrattiva, o meglio verranno attratti altrove ai gruppi familiari e rispetteremo la volontà di avere un tratto di costa che sia, sempre nei limiti chiaramente del decoro e della decenza, più per persone che vogliono pigliare il sole in libertà piuttosto che, e rinunciano ben volentieri ai servizi per questo. Un'altra attività che facciamo chiaramente sono i monitoraggi naturalistici all'interno dell'area parco e questi li facciamo con alcuni interreg che ci vedono abbastanza vicini anche le esperienze al di là del nostro orizzonte regionale, per cui da una parte stiamo a Porto Cesare monitorando il Gabbiano Corso e il Fraticello, che sono due specie della Vista Rossa che edificano rispettivamente sull'isola di Santa Andrea e sugli scolli di Porto Cesareo. In più quest'anno, per il secondo anno, unitoreremo anche all'interno del parco e l'anidificazione di Caretta Caretta con un progetto che si chiama Pro Acta Natura 2000 e che stiamo portando avanti insieme alla Grecia. E qui poi a fine stagione ci facciamo gli scambi di dati. L'altro posto dove lo facciamo è la foto in basso e nel Pueblo Polneso, dove abbiamo un campo di volontariato che stiamo realizzando. Quest'anno stiamo facendo in Grecia un bel campo di volontariato a Corfu, bisogna dirlo come lega ambiente, per cui i rapporti con l'altra sponda si stanno incentivando. In totale, la nostra presenza tra campi in Italia, la somma ha circa 7.330 ore e 50 di lavoro, che è una cosa spaventosa, nell'ambito fondamentalmente di luglio-agosto. E viene garantita tutta una serie di soggetti, tra cui i ragazzi dei campi, i ragazzi che ci vengono e le amministrazioni pubbliche, perché è bisognosi di particolari esperienze positive e il lavoro svolto da noi anche, ovviamente, come volontari. Quello che è venuto fuori da tutta questa esperienza, che è un'esperienza di turismo responsabile, è per esempio questa che è la mappa del 1 giugno-settembre 2012 dei principali punti di fuoco del parco. Vedete ogni fiammella c'è la data e c'è ovviamente, cliccando sul documento, che viene fuori anche la relazione tecnica, c'è chi come qua, c'è come quando e presumibilmente chi è per quale motivo. Per esempio questi piccoli incendi che stanno nella parte bassa dell'inquadratura, non avrebbero, mentre quelli nella parte alta evidentemente sono legati questo alla pastorizia, perché questa è una zona di pascolo, quindi è evidente che si è fatto per ricavare erba per il pascolo delle pecore, che sono ospitate nelle masserie all'interno. E mentre questa invece, la parte bassa, è un evidente fenomeno, diciamo, legato al business dei parcheggi. Questa zona che vedete in chiaro, questo è un grosso parcheggio autorizzato temporaneamente, che contiene circa 3.500 macchine e ovviamente non fa molto piacere a chi vorrebbe fare i parcheggi a fianco che il tipo lo faccia. Ovviamente sono tutte persone borderline che hanno una serie di problemi con la giustizia da secoli, è evidente che ci sia stato il contrasto con qualche altro soggetto, ha detto spettacolo, ci mettiamo d'accordo. Noi sappiamo e abbiamo relazionato ovviamente di questo, poi dicendo guardate che è successo questo, è successo in questa data e per questo motivo e non a caso è nato proprio a favore di fuoco per andare a bruciare le macchine del parcheggio e creare danno all'attività. Quindi tutta una serie di cose vengono fuori come una cartina diciamo in trasparenza nel momento in cui capisci chi come e quando, altrimenti sarebbe un dato statistico, tot e tari col giorno e finisce lì. L'unica cosa che ti può succedere è che il proprietario non può costruirci, ma lì non gli importa nessuno di costruire, lì il business è ben altro. Se non gli dai una chiave di lettura corretta, questi incendi sembrano incendi spontanei o volti ad alto, invece noi sappiamo perché si fanno e il piano del parco deve vedere ad esempio che quel parcheggio lì non può esistere, semplicemente altrimenti rimarrà sempre un punto di innesco di conflitti di quel tipo. Quindi bisogna invece fare stabiliti di parcheggio al di fuori delle perimetrazioni del parco in area a basso impatto. Una delle determinazioni dovute a questa osservazione chiaramente si riperpore immediatamente nella pianificazione del parco. Questi altri invece hanno a che fare con un altro fenomeno di microcriminalità per cui incendiando o in alcuni casi, in varie parti dei casi in realtà sono dei barbecuri che ormai accendono sotto il Ginevro e non far vedere il fumo e nascondersi, poi gli scappa il fuoco e bruciano il Ginevro. Ma in alcuni casi, in diversi casi ci è capitato di intercettare, in un caso anche fare arrestare, giovani locali che bruciano ai bordi della Pineda per far scappare i bagnanti e rubargli le borse, che è una cosa incredibile, ma succede pure questo. Per cui noi quando andiamo a fare la pulizia andiamo a trovare le borse e quei documenti, ma ovviamente sempre senza soldi e i margini del parco, lungo quelle linee di fuga da cui scappano le persone per quegli incendi. Noi sappiamo esattamente, più o meno sappiamo anche per nome e cognome chi sono che fa quelle cose lì, per cui in alcuni casi li abbiamo arrestati e in altri sono segnalati alla polizia. Poi ecco, siamo arrivati, forse siamo uno di pochi parchi che sa esattamente dove più o meno scoppierà l'incendio e più o meno chi lo appicchierà. Non quello che è successo, ma dopo 3, 4, 5 anni di monitoraggio abbiamo uno screening abbastanza preciso delle dinamiche del perché succedono queste cose. Tant'è vero che ogni anno diminuiscono il numero, se questa cartina l'avessimo dovuta fare nel 2005-2006 sarebbe praticamente un'unica fiamma. Adesso diciamo che siamo riusciti a capire alcune dinamiche. Una cosa ancora più interessante, ecco queste le discariche che i ragazzi chiaramente facendo la verifica non è che fanno solamente i motorini, vedono anche che sono le piccole discariche di neati eccetera e segnalano la tipologia di demolizione pariene, demolizione mobili in loco, immobili in loco, demolizione pneumatici amianto. Abbiamo fatto questa carta, l'abbiamo consegnata al sindaco e all'ASA dicendo attenzione che in ogni caso abbiamo sostanze tossiche, sostanze cancerogene, quindi vanno a bonificare in urgenza. E questo è un lavoro che hanno fatto i ragazzi con una, oltre che noi chiaramente durante il lavoro, proprio compilandola con le coordinate geografiche, diciamo ben georeferenziate su Google, in modo che è facile poi andare a intervenire. E a onore del vero, buona parte di questi siti sono stati bonificati dalla fine dell'estate scorsa, quando li abbiamo comunicati, ad oggi. L'amianto l'hanno tolto via tutto. Noi facciamo anche l'avvistamento al di là del campo di volontariato, c'è anche gli altri tipi di... Noi facciamo l'antincendio? Si parla anche di giugno, no? Esattamente, noi facciamo l'avvistamento lo facciamo indipendentemente. L'avvistamento lo facciamo indipendentemente, assolutamente sì. Diciamo che abbiamo più disponibilità di ragazzi, quindi la facciamo in un range più lungo di tempo, mentre invece nel periodo, diciamo, fuori dal periodo del campo garantiamo solamente un periodo dalle 12 alle 16, fai conto, fisso, e poi ovviamente stiamo in giro. Mi ragazzi mi dicono che c'erano due postazioni per cui sono, matematicamente, in un quarto d'ora, se succede qualcosa, te la segnalano. Per noi, diciamo, lo garantiamo solamente per un periodo più breve e per il resto della giornata è un po' random, nel senso che se ci troviamo, lo individuiamo. Purtroppo la disponibilità di tante forze lavoro non è costante nel tempo. Oh, questa è una delle più interessanti delle carte, ed è proprio quella della distribuzione dei gruppi sociali, che è molto molto precisa. Per cui in blu ci sono i turisti stranieri e chi è disposto a fare anche i chilometri a piedi o in bicicletta per trovare una spiaggia dove anche a Ferragosta ci saranno più di due persone. Ed è questa qui, la zona, diciamo, più, questa, la zona più a sud del parco, il litorale, diciamo, di mancaverso dal cotriero fino appunto a Pizzi. Ed è dove noi andiamo a fare le pulizie, perché non ci andrebbe nessuno, perché non... Dei locali non va nessuno, soprattutto qualche pescatore, perché è molto poco accessibile, sono tre o quattro piccolissime spiagge, dovevi vedere queste piccole installature, questo è scogliera a Barsa. Ma per i tedeschi va benissimo, per i tedeschi è il massimo. E ancora, diciamo, famiglie, però più di italiani, ma turisti in senso tradizionale, cioè amanti delle zone, sono quelli che frequentano quest'altro tratto, che pure è abbastanza distante dai parcheggi, bisogna farsi 300-400 metri a piedi dentro la pineta, per cui anche qui c'è una selezione proprio per difficoltà di un turismo più sensibile, sono quelli che ovviamente hanno più rispetto, perché se io ovviamente ci metto più tempo a arrivare, devo fare, sono più scomodo, vuol dire che ci tengo a quel posto, sono quelli che in genere si puliscono da sé, quelli a cui noi diamo gli esempi, diciamo, più produttivi, più replicati. Le zone verdi sono quelle invece dove vanno in genere le famiglie, ecco qua, perché sono quelle ovviamente più vicine alle strade di accesso e ai parcheggi, è più facile arrivarci, molto tempo ci andiamo con la macchina direttamente, adesso scelgono quelle dove sono più vicini con la macchina, perché devono scendersi la cassetta dell'acqua mirale, devono scendersi una volta il barbecue, adesso sedie, tavole e tutto, quindi per loro il parco è una sorta di parchetto urbano, di giardino di famiglia, deve organizzarsi le loro attività. Però c'è una novità possibile là. Poi ci sta tutta la zona e queste zone diciamo sono quelle dove abbiamo visto sono più vicine alle strade di accesso, dove sono le strade di accesso sono anche i locali. Quella rosa, la zona rosa è quella dove ci sta la comunità, che noi chiamiamo GLBT, in termini molto tecnici. E sono tutti quanti, non ci sono solo posizioni con altre aree, perché le famiglie evitano di andare in quella zona, viceversa loro non vanno fuori dalla zona loro perché troverebbero il casotto delle famiglie con il... quindi si sono un po' divisi il territorio, mentre in giallo sono le zone dove ci vanno i ragazzi quelli con le tende, queste qui, sono una o due. E ovviamente con problemi abbastanza seri di conferimento dei rifiuti tutti quanti, ogni tipo di rifiuzione tolto per i turisti del nord, diciamo, gli straniere, i rifiuti li puliscono loro e li portano fuori. Negli altri casi, sia dove ci sono le comunità gay, sia dove ci sono i locali e i ragazzi, c'è un accumulo selettivo di rifiuti per cui tu ti vendi e vedi solamente un pezzo di territorio lavorifuri, sai benissimo chi sono i furitori, perché è chiaro che le lattine di birra a montagne è la zona che sono dei ragazzi con le tende. Se trovi una strada così di profilattici è dove ci sono i gay e nessuno pulisce. Se trovi invece ogni tipo di prodotti di incartamento alimentare eccetera e le famiglie dei paesani, questo qualche anno fa. Da due o tre anni abbiamo notato però che per quanto riguarda soprattutto le famiglie dei locali, ed è successo nell'ultimo episodio durante la Pasquetta di quest'anno, addirittura non hanno riempito nemmeno i sacchi che non abbiamo lasciato ai punti di raccolta, perché si puliscono tuttora se cominciano ad andare via anche i locali. La cosa più positiva che si manifesta è che si è cominciato a verificare un'affezione all'uovo e uno spirito emulativo rispetto agli altri. Nel momento in cui si trovano pulito lasciano pulito, anzi portano via anche i sacchi che noi a volte rientriamo e poi portiamo via dopo due o tre giorni e si riportano via con i camioncini e le cose e portano via tutto. Quindi è una tematica estremamente positiva. Le emergenze più gravi da gestire sono i fenomeni incontrollati all'interno dell'area gay e soprattutto le tende che sono ingestibili e che sono a rotazione velocissima. Solo due o tre giorni poi arrivano gli altri e non sanno che ci sono delle regole e si ritengono in diritto di fare che gli pare. Per cui è uno dei fenomeni che stiamo pensando sia col piano socio-economico ma soprattutto con quello territoriale di disincentivare in una serie di modi. Un'altra cosa, ecco, e poi i servizi che noi stiamo cercando di dare sono i punti di servizio dove noi daremo informazioni e acqua alla spina per evitare che ci siano miliardi di bottiglie in giro per il parco, cioè incentivare e poi rendere obbligatorio l'utilizzo dei contenitori riutilizzabili, li daremo in questi punti di accesso, che sono cinque a regime, quest'anno noi stiamo attivando il primo, questo qui, che è uno dei più urgenti. Sono piccole casette in legno in cui noi diamo una serie di servizi, tra cui anche la raccolta differenziata centralizzata, non diffusa in mille cestini nel parco, che non funziona, perché diventano punti di accumulo che è difficilissimo e peraltro invasivo andare a ripulire. Immaginiamo una fino che deve andare in mezzo alle dune per andare a trovare il cestino sull'ultima spiaggia, il danno è enorme, ma soprattutto i costi sono tali che non ci andrebbe a farlo mai, e anzi col cestino alla fine della stazione diventerebbe un cumulo grande quanto una casa di rifiuti, perché tutti li porteranno lì, ma nessuno lo porterà via. Invece, dire alla gente, voi arrivate in macchina, dal punto del barco di accesso nel parco, trovate i servizi, qui sappiate che se voi portate una bottiglia d'acqua inerale, il vuoto lo dovete riportare qua, perché nessuno verrà a riprenderlo in un punto X del parco. E' un sistema di raccolta che stiamo sperimentando con successo in alcuni tratti e che diventerà proprio strutturato con dei centri servizi in cui ci saranno anche i servizi igienici, viva Dio, che ancora non ci sono nel parco. E' il punto di avvistamento antincendio con le videocamere, in automatico le infrarossi, per cui saremmo in grado di automatizzare il discorso dell'antincendio una volta messi in opera questi. L'idea di realizzare i servizi all'interno di questa rete di piccole casette in legno, ci è venuta proprio dall'esperienza che ci è venuta dai campi e dalla frequentazione del parco. E da ultimo, questi sono gli interventi che stiamo realizzando quest'anno col parco, in alcuni casi, stiamo facendo la riforestazione di alcune aree in cui la pineta, che bruciata alcuni anni fa è stata sostituita da specie da un'autotona, quindi acace, eccetera. Quindi siamo in questo tratto rosso, l'abbiamo già fatto con i campi, abbiamo piantato le querce spinose, come Fabio e Sago, le abbiamo viste a costruire, abbiamo piantate all'interno della pineta, ormai distrutte dall'incendio, ed hanno attecchito benissimo e sono tra l'altro uno dei pochi tratti di vegetazione autotona lungo dal litorale. E ancora, vedete, restaccionate con le aree picnitte che stiamo sviluppando su tutto questo fronte che è fuito dalle famiglie, non ovviamente nella zona dei gay, del suo trans, questa qui, in modo che le famiglie vengano attirate in questa zona che fa l'arte molto sicura vicino alle vie di fuga e anche in caso di incendio è estremamente più sicura per loro. E poi tutte queste zone gialle sono di ricucidura tonale, cioè dove purtroppo l'attraversamento incondizionato delle dune da parte dei scritori hanno tagliato, in alcuni casi proprio livellato e distrutto, dune anche di 8, 10, 12 metri. La più grande di tutti, la mamma delle dune, che è questa qui, quest'anno, allora, dove sta? Sì, questa qui la stiamo, con il campo di montella di quest'anno la stiamo ricucendo, cioè stiamo utilizzando delle staccionate in pareti di castagno e arelle di cannuccia e la stiamo, stiamo impedendo l'accesso perché continuano a salire e scendere la duna che porta all'erosione e quest'inverno provvederemo al ripascimento artificiale, cioè a far riportare la sabbia che in realtà non sta verso il male, sta alle spalle della duna perché il vento la porta nella pineta e poi con un sistema particolare di parciamatura stiamo reimpiantando il ginepro, la filirea e il lentissimo che sono le piante che un tempo la tenevano unita. I ragazzi saranno i primi quest'anno a mettere proprio la struttura base, proprio i paletti di castagno, il filo zincato e le arelle di... e sarà per loro una grande soddisfazione vedere anno dopo anno questa duna che ricrescerà perché noi ce la faremo a farla ricrescere quella duna. Ovviamente è un esempio pilota perché sarà poi il piano del parco e i finanziamenti della regione a consentire in tutte queste altre aree, che sono tantissime, vedete questi tratti gialli, di fare poi a regime il sistema di fondo di tutta la tracosta. Però quella più importante, quella più che vedi proprio dal paese, da 4 km proprio questo taglio bianco, lo ricuciremo noi. Un'altra ultima cosa, tutta la sentieristia che abbiamo sviluppato all'interno del parco, ma anche i collegamenti dal parco all'entroterra, questi bianchi che stiamo sviluppando con il sistema ambientale e culturale e a diritto, ecco, questo è il sacco, è la rete che unisce con le piste ciclabili in tutti i paesi dell'entroterra che è di Polino e con il parco. L'abbiamo ideato noi seguendo il corso d'acqua del canale di Samari e ci ricolleghiamo a tutti gli attrattori storico-culturali, quindi la Grotta delle Veneri, il Museo Estrati della Lezza, il Museo della Città Contadina, Tulli e così via, si può arrivare, e l'abbiamo sperimentato con i discopoli in Puglia in questa primavera, in circa un'ora e mezza di bicicletta si arriva dalla costa al più distante degli attrattori, quindi è possibile, soprattutto in primavera, realizzare questo tipo di esperienza, proprio andare in bicicletta dalla costa all'entroterra seguendo percorsi assolutamente interessanti, integri e per alcuni persi anche molto affascinanti. e viceversa, o complementarmente, abbiamo sviluppato una dorsale che partendo da Letrana arriva giù fino all'Euca, seguendo un po' tutte quelle che fino a Nadorano le linee di transumanza e più a sud quelle invece di pellegrinaggio in direzione di Leuca, collegando un po' tutta la dorsale delle colline e anche i punti di attrazione, diciamo, culturale ma soprattutto religiosa, quindi tutte quante le chiesette che sono per lo più medievali che si susseguono lungo la linea delle colline, la chiesa Antiglia d'Ultemare, la ronda del Casale e così via fino all'Euca. Quindi, diciamo, questo parco si innesta con una serie di percorsi sia all'immediato introterra, a Raggera, ma ricostituendo anche in maniera più sana i rapporti tra costo e introterra, che adesso sono veicolari della strada a scorrimento veloce, che indirizzano alle macchine di arrivare in spiaggia in 10 minuti, ma evidentemente chi arriva in spiaggia in 10 minuti, diciamo che non ha lo spirito giusto per finire correttamente, perché morde, fugge, consume il panino, butta tutto e al mezzogiorno deve stare a casa o alle due di stare a casa. Noi invece vorremmo che le esperienze di spiaggia cominciasse a tornare ad avere un valore, da questo punto di vista, e quindi si esituisse via via anche con la regolamenta di originazione del traffico, con parcheggi più arretrati e, come dire, per le spiagge del parco parliamo in maniera un po' più calma di fruirne con saggezza, perché le spiagge, ahimè, di tipo commerciale, facilmente raggiungibili, ce ne sono più in troppe. Se questo parco attrae ancora turismo di qualità, noi vorremmo che ne attravesse sempre di più e diventasse una discriminante per un certo modo di fruirne ed altro. E questo da ultimo sono un po' i ringraziamenti, questo è il mio greco che è uno dei, diciamo, dei portavoci della comunità gay, con cui abbiamo un rapporto ottimo per altro, abbiamo moltissimi di loro che sono i nostri soci che ci danno una grossa mano anche nel gestire i rapporti tra i ragazzi e il territorio. E' veramente una persona molto in grado di Amsterdam, lui vive ad Amsterdam, anche se originario del Salento, ed è direttore di una scuola fra le più rinomate, diciamo, di scenografia e di arte, diciamo, rappresentate di danza. E quando viene da noi è il primo a darci una mano e anche a comunicare la qualità dell'attività che noi facciamo, così come anche un'altra lettera, Francesco Giro invece da parte di un'altra comunità, dimenticavo importantissima la parte più esterna del parco, quella a sud, non ci sono solo stranieri, ma ci sono i portatori di handicap che scelgono specificamente, paradossalmente la zona meno accessibile del parco per loro è quella più favorevole, perché li porta a stare in tratti di costa soli, per cui se una persona estremizzata o ha problemi grossi di ambulazione insieme alla moglie, al marito, alla famiglia, è lì che trova la spiaggia sua, senza avere l'imbarazzo di stare in una spiaggia che è per chi esibisce. Quindi il parco ha un'alta valenza che tra le tante che abbiamo scoperto c'è anche questa, di attare persone che vogliono fruirne, sono diversamente abili, ma anche diversamente e maggiormente sensibili alle bellezze della natura e apprezzano moltissimo, non andrebbero mai in nessun altro posto che non fosse quella caletta dove sanno che al tramonto sono solo lui, la moglie e gli amici che fanno il bagno lì. Noi ci teniamo moltissimo che quel parco rimanga anche l'unico tratto in cui questa gente si possa sentire a casa sua. E comunque un po' perché questo ragazzo ha un grosso problema e almeno due della comunità sono venuti meno quest'anno perché avevano problemi molto gravi. Però l'idea è che un parco possa garantire un tipo di turismo anche a gente che non avrebbe altri spazi, che sono quelli che nonostante gli handicap fisici ci puliscono le spiagge, sono quelli che ci segnalano se ci sono incendi, sono quelli più presenti nell'attività sociale del parco, però è motivo di grandissimo orgoglio perché è un'altra delle comunità importanti del nostro parco, è questa lettera che ci ha spedito Francesco alla fine della stagione scorsa, tra l'altro l'ultimo luglio, il primo aprile del campo nostro, quei ragazzi, è molto commovente perché dice se vi avete portato sull'isola di Sant'Andrea dove la gente comune non ci arriva vuol dire che posso fare tutto. E questo è chiaramente un'altra delle valenze del parco, è anche un tipo di turismo particolare a cui bisogna saper dare come parchi una risposta importante. Bene, questa è la... e questo è Francesco, con la moglie e con un'altra di questo. Allora, dicevo, questa è un po' l'esperienza che stiamo sviluppando nel nostro parco a Gallipoli e che in una certa qual misura per molti aspetti stiamo replicando sia nell'area ottantina che a Porto Cesare dove abbiamo, come il reparto, di proposta di esperienze. Crediamo che ci siano elementi positivi da valutare perché diventino degli standard anche in tutta la rete dei parchi regionali. E' finito. Grazie a Maurizio, è stato interessante come esperienza. Dal mio punto di vista è stato molto interessante, credo posso essere portavoce anche degli altri visto che erano tutti interessanti. Se ci sono domande... Altrimenti il primo luglio dovete darci una mano, perché quella sicuramente è una delle cose più faticose che facciamo. E' una cosa bella comunque, è il ruolo sociale che assume anche il, tra virgolette, l'ambientalismo, quello che viene visto come difesa, spalle tratte dal verde e basta, quando invece diventa... Va bene, sono luoghi comuni a volte, per chi non conosce bene il settore. E' un parco collante, tra i vari soggetti istituzionali, fruitorici, che vivono nel parco. Siamo quelli che fanno stare insieme tante situazioni, gruppi, che vengono, per fatti solo in un tasto con gli altri. Noi siamo quelli che mettono insieme e cerchiamo di fare il meglio per tutti, cominciando per la natura, ma anche per l'uomo, perché sono parchi essenzialmente per l'uomo, questi parchi regionali. La maggior parte dei nostri parchi hanno una fruizione antropica altissima. Siamo parchi che hanno problemi opposti a quelli montani, in cui, nel territorio con gli appenninici, dobbiamo attirare la gente perché si riattivino le economie. Noi invece abbiamo il problema di far vivere bene, cioè l'antropizzazione di questi luoghi che è altissima, renderla tollerabile, certi limiti con quello che è l'ambiente naturale. Quindi dobbiamo lavorare nel ridurre, non nell'aumentare la potenza dell'uomo. Che è anche questa economia fondamentalmente. Assolutamente sì. Niente, io ti ringrazio. Chiudiamo qui questo terzo incontro con il nostro ciclo di seminari e la scoperta della green economy. Invito tutti quanti al prossimo ed ultimo incontro in programma per il 28 giugno, venerdì prossimo, dove avremo come relatori l'ingegnere Guido Poliseno, rappresentante della FATER SPA, partecipata da Procter Gamble, che ci parlerà del riciclo dei rifiuti, nello specifico ci presenterà un progetto pilota sul riciclo dei pannolini e ci sarà inoltre l'ingegnere Marco Ferruccio, consulente dell'azienda A0CO2. ci parlerà di risparmio energetico e di risparmio e di sistemi produttivi altamente ad alta resa. Grazie a tutti di nuovo e buonasera da tutti. Grazie a tutti.